ah ok siamo partiti, ecco ci siamo adesso io sono tu vediamo se c'è qualcuno prima, che non ci siamo solo noi tre beh all'inizio ci vuole un po' di tempo ma questi eventi sono seguiti? posso chiedere quello? beh ci siamo 20-25 persone il numero è quello lì è un po' di più di quello che si sarebbe da farlo live ah ho capito, quindi aumentate la presenza con la formula remota beh sai in Italia magari qualcuno lontano che ci segue viene insomma ho capito, quindi avete quelli che vi seguono con tanto affetto da casa sì, poi qualcuno abbiamo Steve Braccali abbiamo tre persone collegate bene, le salutiamo aspettiamo ancora qualche secondo perché abbiamo avuto qualche problema tecnico col teletrasporto e quindi beh senti Paolo io direi iniziamo un pochino intanto pian piano le persone in qualche modo arriveranno ecco e allora io sono Claudio Testi sono istituto filosofico studi tomistici sono particolarmente contento stasera di essere qua sia per la tematica che come avrete visto è molto molto intrigante interessante ma direi soprattutto per la persona che la tratterà ecco che è Paolo il professor Paolo Zanardi è una persona che mi è particolarmente caro direi anche particolarmente caro all'istituto filosofico di studi tomistici perché io l'ho conosciuto Paolo quasi trent'anni fa ormai 1992-93 quando mi dava lezioni di fisica io lo ricordo aveva più capelli di aveva pochi veramente adesso non ne ha neanche uno aveva pochi però erano più lunghi me lo consigliò un ragazzo che conoscevo che mi disse era un ragazzo allora molto molto in gamba e mi diete le lezioni mi ricordo che erano proprio entusiasmanti a me piaceva molto venivo dalla filosofia e lui aveva un modo di insegnare molto molto filosofico infatti sono convinto che dovrà studiare seriamente anche filosofia poi dopo vi racconto un pochino la storia giusto per fare un po' un'introduzione e con Paolo che poi si laureò abbiamo dopo come istituto filosofico per vari anni direi almeno 5-6 ecco continuato anche una relazione proprio di studio nel senso che lui e un gruppo di suoi amici fisici venivano all'istituto filosofico e ci spiegavano un pochino diciamo i problemi fondamentali della fisica e dall'altro venivano anche a partecipare a delle lezioni filosofiche e quindi si era creato un clima estremamente vivace dal punto di vista intellettuale con dei dibattiti per me profondi e sempre di alto livello poi dopo ci siamo un pochino perse le tracce perché dopo vorrei che Paolo Zanardi io lo chiamo Paolo ho molta confidenza però abbiamo davanti con noi e non sto scherzando un accademico cioè qua questa Paolo il professore Zanardi è uno scienziato di chiara fama molto in settori molto specialistici ecco quindi non è un divulgatore ma attualmente perlomeno è uno che fa delle ricerche molto avanzate vorrei che poi ce le spiegasse lui e dopo ha fatto la sua carriera chiederò a Paolo di completarla e poi insomma qualche anno fa mi ha detto Claudio sto tornando in Italia vediamoci mangiare una pizza mi erano passati penso almeno dieci anni dall'ultima volta che non ci vedevamo forse qualcosa di più e quando ci siamo ritrovati cioè sembrava che fossimo tornati nel 1992 forse un secondo che non ci fossimo visti in qualche modo quindi è stata una bellissima serata c'era un altro amico anche che era Umberto se ti ricordi poi poi ci siamo staccati per altri non so penso cinque anni adesso vado a circa poi quest'estate mi ha detto guarda Claudio sto tornando in Italia vediamoci infatti ci siamo trovati con lui quest'estate mi ha invitato a cena a casa sua quando ancora si poteva vedersi di persona e anche lì è stata una bellissima serata ho conosciuto anche tua moglie è stato molto piacevole e da lì ho detto dai facciamo una serata all'istituto la moglie è fondamentale fisica anche lei tra l'altro bravissima anche lei e soprattutto molto più brava di Paola nella gestione della diretta Facebook ecco devo dire quindi niente è nata l'idea dai proviamo a fare una serata dedicata a queste tematiche titoli un po' provocatori della scienza della fantascienza teletrasporto e computer fontistico e abbiamo deciso di fare questa serata ecco l'unico grande peccato purtroppo è che non la possiamo fare in presenza questo mi dispiace molto perché l'istituto filosofico come voi sapete nasce per creare un ambiente filosofico a Modena lo stiamo praticando questa nostra politica molto anche esistenziale la filosofia come stile di vita ci piace e la filosofia come stile di vita la si crea dobbiamo dire la verità soprattutto in presenza soprattutto non tra moltissime persone e ci vuole anche il contatto fisico proprio quasi in senso stretto devo dire da questo punto di vista qua la situazione è questa qua abbiamo deciso di farlo lo stesso speriamo di avere altre occasioni per poterla fare anche live ecco io ti ho lasciato lo spazio direi dal 97 fino al 2015 quando ci siamo rivisti di raccontarci un pochino quello che è effetto ecco torna a dire Paolo è disponibilissimo però abbiamo davanti e qua sono serio uno scienziato molto molto quotato a livello internazionale infatti è casuale che lui sia in Italia ecco raccontaci un pochino come sei arrivato diciamo non a questi livelli ma cosa hai fatto ecco dal 93 96 in avanti e allora grazie Claudio fammi naturalmente cominciare ringraziandoti per un invito molto molto apprezzato e un ritorno perché in effetti tutte le lezioni all'istituto lezioni conversazioni e lotte all'istituto atomistico sono un ricordo antico adesso tu mi dici che addirittura si parla di 30 anni credo che tu abbia credo che tu abbia ragione adesso sulla cronologia dei nostri vari incontri quasi 30 anni perché il 92 era 92 93 92 noi amiamo la precisione quindi sono 28 sì 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 è un lungo tempo sulla scala di come dire sulla scala di una vita umana e quindi l'è stata anche per me quindi sono accadute sicuramente tante cose e quello che è accaduto e quello che è accaduto qualcuno vorrà dire purtroppo oppure per fortuna oppure così è a tantissime persone che fanno una scelta intellettuale del mio tipo cioè di cercare di diventare degli scienziati partiamo da Modena Modena 92 ci laureiamo poi faccio un dottorato un dottorato in fisica teorica alla seconda università di Roma e Torvergata dove peraltro conosco appunto questa signora che è qua di fianco quindi diciamo sicuramente è stato un dottorato di grandissimo successo al quale segue seguono dieci anni straordinari in cui ho l'opportunità della vita che è quella che poi ci porta oggi qui perché mi unisco a un gruppo che ancora deve nascere di fatto essendo la prima persona di quel gruppo e probabilmente la terza nel nostro paese 25 anni fa ad occuparmi di computazione quantistica quindi come dire è la situazione che ciascuno di noi che persegue un percorso intellettuale in particolare scientifico vorrebbe avere se è all'inizio di un campo che letteralmente ti sta esplodendo sotto i piedi quindi quello è il momento in cui c'è l'opportunità di raccogliere quello che si chiama low line fruits cioè di cose che sono ancora relativamente facili da cogliere di frutti abbastanza bassi per cui uno allunga la mano naturalmente deve essere una mano abbastanza lunga e abbastanza esperta per poterli cogliere e quello è accaduto quindi io sto dieci anni a Torino in cui il gruppo a partire da me arriva a essere fino probabilmente una ventina di persone di cui alla fine io comunque ho come dire un ruolo di direzione e qua di nuovo grazie al lavoro estremamente positivo di quegli anni accade quello che appunto vi stavo anticipando mi arriva l'opportunità di lasciare l'Italia non sono uno che ha dovuto lasciare l'Italia avevo un posto avevo un posto molto bello dal punto di vista professionale dal punto di vista umano abitare a Torino è stata un'esperienza straordinaria ma insomma nel 2006 prendo letteralmente una Samsonite una 24 ore mi trasferisco a Los Angeles e con l'idea facciamo un anno un paio di anni per fare l'esperienza americana poi naturalmente si torna in Italia ecco questo accadeva 14 ormai 15 anni fa e in Italia ci torno regolarmente e con grande come dire grande felicità e attesa d'estate diciamo per le famose feste comandate per Natale oppure nell'occasione di pandemie varie però sono 15 anni che lavoro all'università USC University of Southern California quello è come dire il nome l'acronimo che vedete anche nella mia icona nella finestra e sono professore in Italia si direbbe ordinario di fisica teorica e mi occupo di insegnamento di fisica e soprattutto primariamente di gran lunga di ricerca nell'ambito della meccanica quantistica in particolare dell'applicazione della meccanica quantistica la teoria dell'informazione e della computazione quantistica se vogliamo una parola un pochino come dire una buzzword una parola chiave che possiamo trovare anche al di fuori della territoria scientifica mi occupo di computer quantistici premetto che io sono un fisico teorico quindi non mi occupo della parte sperimentale sono un fisico teorico in realtà molto come dire leaning allora Claudio peraltro mi ha giocato un bel faccio una parentesi di un secondo signore mi ha giocato come dire un bello scherzo perché mi ha invitato a fare questo talk che io faccio con grande piacere questo non è solo il primo talk almeno da 30 anni a questa parte che io faccio chiamiamolo di divulgazione poi vediamo quanto divulgativo e quanto efficace potrà essere ma è il primo talk che faccio in italiano e questo anche se naturalmente l'italiano è la mia lingua madre però non è la lingua madre della mia conoscenza scientifica perché sono 30 anni che tutto quello che accade come dire nel mio cervello riguardo alla fisica accade nell'idioma della perfida albione in cui assumevo che gran parte come dire dei nostri dell'audience della platea che immaginiamo e speriamo ci segua stasera o in occasioni future sia assolutamente fluente quindi ci sarà uno sforzo se talvolta mi inceppo non sono segni di alzheimer oppure sì ma prevalentemente sono segni di che sto facendo operando un algoritmo di traduzione dall'inglese in cui accade appunto la quasi totalità della mia vita scientifica all'italiano ma questa è solo la seconda traduzione perché gran parte della mia attività scientifica e qua ritorno al punto avviene nel campo della fisica e matematica io sono essenzialmente come dire se voi vedeste quello che faccio dalla mattina alla sera letteralmente pensereste che sono un matematico perché la classica è la figura stereotipica dello scienziato lavagne e lavagne e lavagne di equazioni di equazioni su equazioni quindi c'è uno sforzo duplice qua che è quello di convogliare un'informazione che nasce e vive di fatto in uno spazio che è matematico al linguaggio naturale cioè cerchiamo di parlare di cose che in realtà la spiegazione più profonda quella in qualche modo concedetemi vera in realtà avviene in termini di relazioni matematiche quindi come dire metto un pochino le mani avanti rispetto a una certa magari inefficienza del convogliare i termini perché c'è questo sforzo da parte mia che naturalmente faccio con grandissimo piacere quindi niente dal 15 sono negli Stati Uniti abito a Los Angeles che è un posto straordinario da molti punti di vista nell'ultimo anno ma come dappertutto la situazione non è straordinaria è complessa però insomma non tutto il male viene per nocere e quindi grazie a questo e grazie al fatto che l'insegnamento è online e quindi lo puoi fare dove vuoi in principio abbiamo deciso a mia moglie che è anche lei professoressa alla University of Southern California a Los Angeles si occupa di cose lievemente diverse ma è anche lei una fisica quantistica possiamo insegnare in remoto e quindi abbiamo colto l'occasione per passare qualche mese a Modena che comunque è un nostro punto di riferimento italiano ecco questo direi che può concludere complimenti è una bellissima storia è una bellissima storia veramente insomma ordinario questa è la realtà negli Stati Uniti non avrei dubitato ecco ho visto la passione anche l'intelligenza chiaramente che avevi dimostrato francamente se mi permetti una battuta che non vuole essere polemica in alcun modo però questa cosa che tu adesso hai sottolineato dell'accademico e dell'ordinario naturalmente sono percorsi difficili ma come lo sono tantissimi alti percorsi nella vita insomma mi sta parlando un imprenditore che gestisce una realtà con una maia di dipendenti e milioni di dollari oppure credo che sia una descrizione fattuale l'America ha tanti problemi diciamo le carriere scientifiche di solito si sviluppano sulla base delle capacità esatto e qualora fosse così anche qua e lo è in una certa misura non voglio assolutamente negarlo come dire ci sarebbero tante persone che sarebbero in analoghe posizioni l'Italia sta continuando rispetto di tutto a produrre generazioni di scienziati e in particolare fammi parlare del mio campo permettimi che conosco molto bene di scienziati di livello straordinario non esiste dipartimento di fisica al mondo e anche qui includendovi le top universities Harvard Princeton Yale Stanford MIT in cui tu non possa camminare in un dipartimento di fisico di ingegneria o di chimica di biologia e guardando i nomi sulle stanze degli uffici e scoprire che ci sono tanti nomi che sono italiani quindi appartengo a un'ampia categoria di persone beh apprezzo l'inciso la modestia anche un po' di realismo nel senso che sarebbe interessante proseguire anche capire come mai poi gli italiani riescono come mi raccontavi tu a sfornare tanti scienziati di altissimo livello però non è questo il tema della serata magari alla fine di quelle domande ecco senti noi ci eravamo preparati una scaletta di domande e quindi che tu praticamente io ti avevo fatto delle domande via mail e tu hai studiato alacremente per poterceli spiegarle cose in modo chiarissimo alacremente niente iniziamo con la prima che ci eravamo detti poi la seconda in realtà perché la prima l'abbiamo deciso di spostare alla fine niente io ti volevo chiedere un pochino se riuscivi a spiegarci qual è la differenza essenziale tra la meccanica quantistica e la fisica classica cioè quella meccanica quantistica cioè se con la relatività io leggo la divulgazione scientifica purtroppo non ho gli strumenti ecco diciamo mi pare che la storia della scienza dice in fondo in fondo Einstein era un fisico classico che ha fatto chiaramente delle intuizioni geniali su spazio e tempo però resta sempre all'interno di un certo orizzonte con la meccanica quantistica sembra che qualcosa sia cambiato veramente in profondità ecco io volevo chiederti se riuscivi a dirci proprio qual era il fattore essenziale che era cambiato tra meccanica quantistica e fisica classica allora naturalmente tu sei assolutamente consapevole che come dire che mi proponi un compito arduo e quindi per certi versi ingrato una delle ragioni delle quali ovviamente quella che citavamo prima che è molto più difficile provare a rispondere alla tua domanda usando come dire il linguaggio naturale che è necessario in un contesto divulgativo che fare una lezione tecnica in cui molto semplicemente ti farei vedere dal punto di vista come dire della struttura assiomatica della teoria e del formalismo matematico cosa è che cambia allora io naturalmente mi sono come giustamente dicevi allacremente preparato dove preparato vuole dire che oggi pomeriggio ho speso un pochino di tempo a provare a preparare un qualche slide e gli slide sono una pura guida slide come diapositiva alcune diapositiva powerpoint sono una guida per me essenzialmente con qualche con qualche foto insomma per ricordarci che dietro grandi teorie grandi risultati ci sono sempre degli esseri umani quindi fammi provare a rispondere a questa domanda che è una domanda molto difficile una domanda molto difficile non solo dal punto di vista della divulgazione lo è anche qualora tu la chiedessi a degli scienziati fra loro stessi perché ci possono essere delle divisioni quindi quello che io dico è essenzialmente condiviso con tutta probabilità da una gran parte dei miei colleghi ma rimane un'impronta personale cioè quello che ti sto per dire che ti sto che hai visto per dire è una mia selezione una personale selezione di questi elementi allora fammi andare sullo slide e adesso mi metto allora intanto cerchiamo di capire cosa intendiamo quando parliamo di fisica classica allora Claudio mi ha chiesto di tratteggiare una distinzione cioè quali sono gli elementi essenziali che distinguono la fisica classica da quella quantistica quindi necessariamente per poter fare quello dobbiamo tratteggiare i due elementi cioè da una parte il campo della fisica classica e quello della fisica quantistica allora per fisica classica quello che intendo è la fisica e la meccanica newtoniana la teoria dell'elettromagnetismo che è stata unificata da Maxwell e molto in modo molto importante è necessario aggiungere a questo la meccanica statistica e qua io seleziono il nome di Boltzmann perché è il padre fondatore dell'approccio razionale meccanicistico alla meccanica appunto statistica in cui compaiono i primi elementi di probabilità la quale se volete è il fondamento microscopico meccanicistico della termodinamica ok allora qua vedo comparire facciamo comparire i nostri signori Sir Isaac Newton James Clerk Maxwell e Ludwig Boltzmann e questi sono i volti di questi gentiluomini che ci hanno regalato queste cose allora qual è il primo elemento della fisica classica la fisica classica è realistica by the way lo sforzo di fare il talk in italiano l'ho fatto però di scriverlo anche in italiano proprio non non ce la posso fare permettimi una scusa banale ma in realtà vera anche perché non ho la tastiera italiana quindi l'ho scritto in inglese ma appunto confido che gran parte di chi ci segue abbia almeno una familiarità parziale con l'idioma della perfida albione allora la prima cosa la meccanica classica è realistica realista cosa vuol dire quello vuol dire che assumiamo e ovviamente questa è un'assunzione comune a gran parte del pensiero occidentale ma non a tutto che esista un mondo cioè che le cose esistano là fuori come dire che non non siamo in una deriva idealista o tantomeno solipsistica esiste un mondo là fuori il quale è formato da oggetti questi oggetti hanno delle proprietà che sono ben definite e sono oggettive cosa intendiamo con questo che esistono indipendentemente da noi indipendentemente che ci sia un osservatore umano o meno che appunto le osservi che le misuri quindi queste proprietà non dipendono dall'osservatore ok quindi c'è un mondo là fuori fatto di cose e le proprietà definenti di queste cose la posizione la velocità il colore la forma la temperatura sono indipendenti da noi non sono soggettive definite dal particolare sperimento dalla particolare osservazione che noi facciamo sul sistema ma sono proprie intrinseche inerenti al sistema quindi il realismo un altro elemento essenziale della meccanica classica ma anche dell'elettromagnetismo è il determinismo cosa intendiamo con questi beh ci sono almeno due coniugazioni di questo di questo concetto il primo è di tipo dinamico e il secondo è di tipo fatemelo chiamare cinematico allora partiamo dal primo quello dinamico è quello che è stato come dire incorporato e divulgato col concetto del demone di Laplace Pierre-Simon de Laplace grande matematico francese del diciottesimo secolo arriva a fare la seguente affermazione se voi mi daste non a me se ci fosse un ente superiore che lui chiama un demone un ente onnisciente superpotente o in termini moderni con infinita capacità computazionale la configurazione di tutti gli atomi di tutte le particelle dell'universo in quale include la lista di tutte le possibili posizioni nello spazio e al tempo stesso delle velocità o più tecnicamente dei momenti dei momenti lineari di queste particelle a un determinato istante temporale che chiamiamo t uguale a zero allora questo demone con infinito potere computazionale sarebbe in grado di determinare la configurazione dinamica del sistema ad ogni istante t nel futuro cioè dato il presente è una descrizione del presente in termini delle leggi dinamiche diciamo di tipo newtoniano lagrangiano amiltoniano ma sono tutte equivalenti pensiamo alla legge f uguale a m per a la forza uguale alla massa per l'accelerazione questa è in principio questa è un'equazione che in principio ti permette di determinare lo stato dinamico di un sistema data la condizione iniziale al tempo t uguale a zero per sempre quindi il futuro ma notate bene anche il passato è determinato dal presente in un certo senso il tempo non esiste è un puro parametro perché una configurazione attuale in un istante definito in realtà contiene in sé in nuce potenzialmente tutte le configurazioni sia del passato che del futuro è questo che ci permette di fare di avere una scienza che ha una capacità predittiva nella misura in cui abbiamo un determinismo dinamico c'è un secondo aspetto che qui denoto con B che è quello di tipo cinematico cosa intendo con questo allora in meccanica classica e per concretezza vorrei che immaginassimo una concezione atomistica del mondo che peraltro è quella che in buona misura è proprio anche della fisica moderna immaginiamo che il mondo sia costituito da particelle da atomi quindi da oggetti elementari la cui combinatoria la cui composizione dà origine a tutta la complessità che via via osserviamo quando ci muoviamo dal microscopico al macroscopico allora se adesso noi consideriamo un singolo atomo ed è la stessa cosa se ne consideriamo una collezione con n di loro allora se noi diamo come diceva Laplace se noi assegniamo una determinato tempo la posizione e le velocità di questo ensemble di questo insieme di atomi allora tutte le altre proprietà fisiche di questo insieme di atomi è determinato se io conosco quello che si chiama il WIPS non so perché faccia questo se io conosco il microstato che vuole dire la lista per tutti gli atomi del sistema per tutte le particelle che costituiscono il sistema di posizione e velocità allora io posso a questo punto calcolare quindi non devo neanche più misurarlo adesso io non so perché faccia questo signore posso calcolare tutte le altre proprietà nel senso se voi mi chiedete qual è l'energia cinetica questa è una funzione delle velocità se mi chiedete qual è l'energia potenziale questa è una funzione delle posizioni delle particelle così vada per il momento angolare e così via qualunque quantità fisica è determinata univocamente dalla conoscenza del microstato di nuovo ditemi tutte le posizioni e tutte le velocità delle particelle del sistema ok Claudio mi segui? sì sì ti seguo benissimo io mi sono mutato e mi sono tolto la telecamera ma molto chiaro perfetto dammi ogni tanto un feedback fai dei rumoretti se no mi sembra entrò io in un delirio solipsistico allora ok allora ogni tanto ti faccio una pernacchia via così ok allora quindi realismo e determinismo coniugato in queste due diverse versioni la capacità di predire il futuro e la determinazione di tutte le possibili osservabili le chiamiamo osservabili tecnicamente le quantità fisiche che sono soggette almeno idealmente a misura dato che siano note il microstato cioè le posizioni e le velocità delle particelle questo è vero fin tanto che ci limitiamo alla meccanica diciamo del signor Newton qua sulla sinistra quando il signor Boltzmann entra in campo ci si scontra con un problema che è il problema della grande quantità di gradi di libertà immaginate un cubo di un centimetro per un centimetro per un centimetro qui dentro dentro quel cubo voi potete potete avere diciamo 10 alla 24 10 alla 25 particelle basta che lo riempiate con un gas tipo una miscela di gas l'aria ok un cubo pieno di niente diciamo di aria a un numero astronomico di particelle allora a questo punto abbiamo una difficoltà pratica di conoscere il microstato cioè non sapremo mai listare determinare per 10 alla 23 oggetti atomi le loro configurazioni spaziali e le velocità ma dobbiamo ci limitare quello che possiamo fare al più è dare delle caratterizzazioni tipo macroscopico per esempio possiamo dire qual è la pressione che questo volumetto di aria esercita sulle pareti del cubo che lo contiene possiamo dire qual è la temperatura possiamo dire qual è il volume possiamo dare in altri termini delle descrizioni in termini osservabili macroscopiche le quali sottodeterminano quelle microscopiche cosa voglio dire che per una determinata pressione volume e temperatura ci sono c'è un numero di nuovo astronomico di configurazioni microstatici cioè di modalità in cui le particelle si possono arrongiare nello spazio che corrisponde alla stessa pressione immaginate che dentro la scatola fate una foto immaginate a un determinato istante di avere la configurazione di tutte le 10 alla 23 particelle all'interno se voi le permutate fra di loro questo corrisponde e di permutazione ne abbiamo un numero che non oso neanche è 10 alla 23 fattoriale quindi una cosa inimmaginabile di gran lunga superiore a tutte le particelle dell'universo ma di gran lunga allora tutte queste configurazioni in cui abbiamo semplicemente permutato fra di loro le particelle macroscopicamente sono identiche corrispondono allo stesso volume temperatura e pressione quindi quando noi facciamo una descrizione tipo macroscopico che è proprio della termodinamica infatti queste variabili che ho appena ricordato pressione, volume e temperatura qualcuno di voi ricorderà sono in effetti le variabili essenziali le variabili di stato della termodinamica queste non determinano il microstato ma il massimo che possiamo fare è di avere una probabilità nel senso che dato una determinata configurazione macroscopica PVT pressione volume e temperatura possiamo dire con che probabilità per esempio le particelle abbiano una velocità superiore a un certo limite o inferiore a un certo limite o la probabilità che come dire che una frazione è che il 50% di S sia confinato nell'angolo sinistro o destro o quello che volete del volume cioè possiamo al di più di fronte alla nostra ignoranza su il dato microscopico abbiamo una descrizione che comporta probabilità ma le probabilità sono in questo caso di natura qua uso un termine di tipo filosofico sono epistemiche cioè il ricorso alla probabilità è solo reso necessario nel formalismo dalla nostra il formalismo è dal punto di vista concettuale naturalmente della nostra incapacità della nostra mancanza di conoscenza della struttura dettagliata riguardo alla configurazione del sistema come dico qua è just lack of knowledge right quindi tu mi dai PVT e io posso fare una serie di asserzioni probabilistiche rispetto a delle proprietà microscopiche però in principio qualora io potessi quindi è una limitazione praticamente insormontabile ma concettualmente no io potrei in principio spendendo un'enorme quantità di tempo di risorse di soldi di energia determinarle tutte queste configurazioni microscopiche cioè effettivamente andare a misurare posizione e velocità di tutte le 10 alle 23 particelle cioè una grande pazienza e alla fine potrei to get rid mollare completamente scordarmi di una descrizione probabilistica perché ho acquisito piena conoscenza del sistema quindi anche in meccanica classica abbiamo l'indeterminismo ok che è proprio della meccanica statistica che è per appunto statistica ok fa previsione tipo statistica ok ci siamo questi sono i tre elementi essenziali realismo determinismo qualora si conosce si abbia accessibilità ai microstati del sistema e indeterminismo nelle condizioni in cui questa accessibilità viene meno per esempio visto l'elevata complessità del sistema cioè un alto numero di particelle ok quindi possiamo dire che ci dà un feedback giusto perché ogni tanto ti senti solissimo diciamo che Boltzmann si muove concettualmente sempre nell'orizzonte l'applassiano in qualche modo concettualmente come sempre si e no si nel senso che lui non assume che le leggi fondamentali della fisica siano diverse da quella della meccanica newtoniana però prende atto che gli strumenti della meccanica newtoniana essenzialmente la risoluzione delle equazioni del moto di f uguale m per a sono così praticamente inagibili dal punto sono dal punto di vista pratico così completamente inagibili che diventano anche completamente useless inutili dal punto di vista concettuale quindi è là fa un salto ed ha finalmente uno statuto di importanza che fino al momento non aveva avuto alla probabilità nel contesto della teoria fisica la probabilità vi ricordo nasce per fare delle previsioni sui giochi di carte o su cose di questo tipo ok quindi abbiamo che la randomness che non so tradurre in italiano vuole dire la no random vuole dire la casualità scusami la casualità non aveva uno statuto fondamentale e continua a non averlo però acquisisce un importantissimo statuto pratico e alla fine poi la scienza come dire vuole risolvere problemi vuole fare previsioni concrete quindi quello che è pratico in scienza alla fine diventa anche essenziale ok detto questo passiamo alla meccanica quantistica per delineare le conseguenze allora qua per simmetria col caso classico come dire ho collezionato tre foto di alcuni dei padri fondatori della meccanica quantistica forse i più importanti ma naturalmente sto facendo torto a qualcuno ma sicuramente Werner Heisenberg Erwin Schrodinger e Paul Dirac non c'è questione che debbano apparire nella lista di chiunque di chiunque abbia un minimo di competenza al quale venga chiesto chi sono le figure della meccanica quantistica allora questi sono i signori allora la meccanica quantistica è non realistica in che senso ovviamente assume continuo ad assumere che esista un mondo esterno la coscienza dell'uomo però questo mondo non è più un mondo in un qualche modo oggettivo perché le proprietà degli oggetti che continuano a costituire il mondo sono fatemi concedetemi questa espressione sono contestuali nel senso dipendono dall'osservatore dipendentemente in dipendenza in funzione di quale tipo di osservazione di quale tipo di domanda noi poniamo al sistema con un esperimento fisico ma anche con un'elaborazione teorica la natura di queste proprietà può cambiare e cercherò magari di fare un esempio quindi è realistica se volete ma in un senso più debole della meccanica classica mi raccomando Claudio fai delle domande quando vuoi mi è stato detto che appunto la diretta Facebook non permette un'interazione live con lo speaker ma tu devi come dire farti carico di tutta questa vasta audience che ci sta seguendo intanto lui sta dicendo che sei chiarissimo quindi vai avanti così allora la fisica quantistica a dispetto di quello che si sente dire molte volte ma come dire capirete come si risolve questo apparente paradosso in un minuto in realtà è una teoria deterministica in che senso che il ruolo che in meccanica classica hanno le configurazioni continuiamo a pensare a un insieme di particelle a un gas hanno le configurazioni spaziali e di velocità qua è descritto da un altro oggetto che va sotto il nome della funzione d'onda the wave function ok poi capiremo un pochino forse di più perché usiamo questa terminologia allora la funzione d'onda è l'oggetto che chiunque faccia il mio mestiere come dire pagherebbe oro e spesso viene pagato oro per avere perché se io conosco la wave function di un sistema quantistico allora conosco tutto nello stesso modo forse ma anche no di come nel contesto classico conosco tutto qualora io conosca la configurazione delle particelle vedete che ho la deformazione del professore continuo a ripetere le stesse cose deformazione professionale e forse un po' di alzheimer così intendo che la wave function evolve deterministicamente così come la configurazione della wave function così come la configurazione delle particelle al time t uguale a zero ci permette se siamo in grado di risolvere e questo è un estremamente arduo problema computazionale ad analitico le equazioni del moto la funzione d'onda al time al tempo scusate t uguale a zero ci permette se siamo in grado di risolvere l'equazione del signor del signor Schrödinger Irving di determinare il valore della funzione d'onda a tutti i tempi successivi e di fatto anche ai tempi antecedenti allora io so benissimo che non devo far vedere delle equazioni by the way ho fatto anche un errore questo signore si chiama Heisenberg H-E-I ci manca una E qui per chi segue Breaking Bad Heisenberg era il nome del protagonista e era preso chiaramente era una citazione dotta di uno dei padri fondatori della meccanica quantistica ma torniamo a Schrödinger e la sua equazione che però vi faccio vedere ecco signori perdonatemi questa è una delle due o tre equazioni che vedrete in questo talk questa è l'equazione di Schrödinger è un'equazione per l'equazione la cui incognita è la funzione d'onda che denotiamo con psi qui c'è una serie di simboli che adesso fatemi spendere 30 secondi per quella frazione della platea che ha una familiarità questa è un'equazione differenziale questo ti indica il tempo H indica l'energia del sistema o più precisamente dal punto di vista tecnico l'operatore Hamiltoniano questa è un'equazione differenziale lineare del primo ordine nel tempo la cui soluzione qualora noi fossimo in grado di problema altamente non banale e credo ci ritorneremo dopo ci permette dato la funzione d'onda al tempo t uguale a zero di sapere la funzione d'onda per tutti i tempi nel futuro e anche nel passato allora perché spesso ci viene detto nella vulgata ma assolutamente ha ragione lo vediamo fra un secondo perché la meccanica quantistica è indeterministica perché è non deterministica perché la funzione d'onda a differenza delle configurazioni microscopiche delle particelle classiche anche qualora io la conosca abbia un'espressione matematica oppure codificata in un calcolatore ad altissima precisione non mi permette di determinare tutte le quantità fisiche di cui io sono interessato di un certo sistema l'energia la velocità la quantità di moto il momento angolare e così via ok eccetera eccetera ma mi permette solo di fare delle predizioni probabilistiche sul risultato delle misure di dette quantità fisiche cioè quando io diciamo voglio misurare l'energia per esempio di questo sistema che è descritto in un determinato istante temporale dalla funzione d'onda psi il massimo che il formalismo quantistico e che al momento è la migliore descrizione che noi abbiamo della natura ci permette e di darci le probabilità con cui i vari possibili risultati per l'energia del sistema appaiono nel nostro processo di misura cioè io lo misuro mille volte dieci volte trovo l'energia uno novanta volte trovo l'energia due e così via eccetera eccetera al più posso predire un istogramma una distribuzione di probabilità rispetto ai risultati delle misure in altri termini questi risultati gli outcomes of the measurement process sono stocastici cioè hanno un elemento di casualità come accadeva in meccanica classica o meglio nella formulazione statistica delle meccaniche classiche ma qui è il grande salto un altro grande insieme all'assenza di realismo e che queste probabilità non sono più ritenute dalla gran parte dei fisici dopo cento anni di dibattiti credetemi talvolta al coltello non sono più ritenute epistemiche cioè derivanti della nostra mancanza di informazione sul sistema ma sono ritenute ontiche qui mi permetto Claudio permettimi di usare questo termine sono un grande cultore dell'ontologia e qua e qua dobbiamo farlo cioè sono ritenute il meglio che possiamo fare cioè sono inerenti alla natura ultima della realtà la realtà così come descritta whatever qualunque essa sia qualunque cosa essa sia il meglio che noi possiamo fare è dare una descrizione probabilistica in cui noi riteniamo non esista nessun'altra possibilità di come dire di aumentare la nostra conoscenza per renderla deterministica nel caso classico vi ho detto sì facciamo le probabilità ma se fossimo così bravi e potenti da determinare tutte le posizioni delle particelle allora potremmo fare a meno di queste probabilità qua si ritiene la comunità scientifica dopo cento anni di discussioni e non solo di discussioni naturalmente di esperimenti non scordiamoci che la fisica rimane una scienza empirica e che alla fine la validità dei costrutti teoretici come dire si confronta con l'esperimento con l'esperienza ok queste probabilità sono ontiche quindi abbiamo una teoria che è inerentemente ontologicamente stocastica ok bene queste prime tre sono le cose più importanti spesso solo le prime due vengono o forse addirittura la terza viene enfatizzata fatemi cercare di andare un pochino più nei dettagli allora un altro concetto molto importante straordinariamente diverso da quello che accade nel caso classico è il concetto di complementarità come vi ho detto voi conoscete quella posizione la velocità di quella determinata particella allora voi conoscete esattamente tramite per esempio il calcolo di una funzione matematica spesso anche piuttosto facile tutte le altre proprietà fisiche allora in questo caso nel caso della meccanica quantistica la situazione è molto diversa the more you know the less you know cioè c'è un concetto di complementarità ci sono delle variabili fisiche delle quantità fisiche che hanno la proprietà che più ne conosciamo una meno ne conoscete l'altra cosa vuole dire la meccanica quantistica è una descrizione probabilistica dire che voi conoscete esattamente una proprietà di un sistema vuole dire che il determinato valore 5 dell'energia appare con probabilità a 1 cioè appare sempre e tutti gli altri valori non appaiono mai questo è il caso estremo del determinismo però quello che accade è che allora ci sarà un'altra quantità fisiche pagate un prezzo più conoscete l'energia quindi esattamente una distribuzione di probabilità deterministiche più diventa indeterminata più diventa incerta la conoscenza che voi avete di altre proprietà cioè c'è un prezzo da pagare e come fatemi fare questo esempio qui adesso cito Stern-Gerlach Experiment che è quello in cui è stato determinato diciamo lo spin delle particelle ma qua forse è un pochino tecnico fatemi fare un esempino di un secondo immaginate di avere dei sassolini i sassolini esistono in quattro versioni ce n'è una quadrata nera una quadrata bianca una rotonda nera e una rotonda bianca ok allora qui abbiamo due proprietà la shape cioè la forma o rotonda o bianca e il colore o rotonda o quadrata perdonatemi o il colore questa è la forma e il colore ha due versioni sono due variabili dicotoniche che in questo caso ci assumono due possibili valori binari se volete bianco o nero allora in meccanica quantistica quello che accade è che se voi determinate la forma per esempio per esempio questa particella è quadrata ok e poi vi chiedete e qual è il colore supponete che non possiate misurarli contemporaneamente ok e che o lo toccate con le mani con gli occhi chiusi oppure avete come dire una piccola apertura un microscopio che vi fa vedere il centro di questo sassolino quindi vedete il colore ma non sapete la misura non sapete la shape non sapete la forma allora se voi sapete la forma esattamente quadrata allora dite vabbè adesso misuro il colore e l'osservate e dite è nero perfetto adesso dite I'm done sono a posto adesso so perfettamente entrambi i valori di queste due quantità fisiche ho un quadrato nero poi dite wait a moment aspettate un attimo facciamo un double check cioè controlliamo così una prova del 9 e adesso controllate di nuovo la forma e quindi questo quadrato che originalmente era nero e avete scoperto essere excuse me questo quadrato che era questo sassolino che era originalmente un quadrato che avete scoperto essere nero adesso andate a vedere di nuovo la forma e cosa accade che scoprite che questo oggetto questo sassolino adesso può essere sia quadrato che rotondo con probabilità 50% il fatto che voi abbiate determinato il colore ha reso indeterminato completamente stocastico random casuale la forma e viceversa se prima determinate il colore e poi determinate la forma e poi volete fare la prova del 9 sul colore vedrete che avere determinato la forma ha reso il colore completamente indeterminato c'è un prezzo da pagare più sai sulla forma meno sai sul colore e viceversa quindi qua abbiamo una situazione in cui a seconda della misura che tu performi che tu attui sul sistema acquisisci delle informazioni radicalmente diverse sulle proprietà del sistema puoi sapere esattamente una proprietà e in maniera del tutto indeterminata una seconda un altro esempio è quello del principio di indeterminazione di questo ragazzo qua che ha scoperto quando aveva 24 anni uno dei più grandi fisici ma di fatto scienziati di tutti i tempi il grande Werner Heisenberg che si è reso conto che c'è un analogo principio di complementarità o indeterminazione a livello della posizione indicata qua con questa x un pochino strana che è più una kai e della quantità di moto cioè della velocità che qua è indicata con una rho ma che dovrebbe essere una p cioè l'indeterminazione qua permettetemi un simbolo che è la come dire delta x ci indica quanto broad quanto larga è la distribuzione di probabilità rispetto alla misura della posizione della particella e delta rho o p dovrei dire è l'analoga indeterminazione la varianza sulla distribuzione delle probabilità del momento il loro prodotto matematicamente non può essere arbitrariamente piccolo ma è al minimo questo h bar è h tagliato se dici in italiano diviso 2 non ha importanza questa è una fondamentale costante della natura nota come la costante di Planck cosa vuole dire questa cosa qua che se voi rendete delta x molto piccolo cioè determinato con una precisione via via maggiore fino a rendere l'incertezza legata alla posizione piccolissima necessariamente affinché questo prodotto questa moltiplicazione delle quantità rimanga più grande di h tagliato diviso 2 allora delta p deve crescere più sapete la posizione meno sapete il momento viceversa se voi rendete l'indeterminazione la varianza sulla distribuzione di probabilità del momento cioè determinato in maniera sempre più precisa qual è il momento il momento è semplicemente la velocità signori della particella allora necessariamente l'indeterminazione sulla posizione cresce quindi c'è questo trade off c'è questo trade off non lo so tradurre ma vuole dire che se guadagnate da una parte perdete dall'altra noto di passaggio questa è la formulazione originaria del principio di indeterminazione di Heisenberg che ha delle implicazioni straordinarie make no mistake this is a major deal se io non posso determinare simultaneamente la posizione e la velocità di una particella viene a me un concetto fondamentale della fisica classica che è quello di traiettoria la traiettoria di una particella che è la modalità con cui noi pensiamo ai moti degli oggetti nel mondo intorno a noi assume che in ogni momento tu abbia una posizione e una velocità perché se avesse solo la posizione e la velocità diventerebbe completamente random nel senso che non ci sarebbe più continuità noi disegniamo delle curve che in buona sostanza sono come dire dei tratteggi continui e di fatto in realtà più che continui sono lisci ammettono una derivata ok questo può sembrare un po' tecnico ma come dire credetemi il principio di indeterminazione di Heisenberg getta dalla finestra la capacità di descrivere il moto degli oggetti del mondo in termini di traiettoria perché se sapete la posizione non sapete la velocità e viceversa questo è un esempio di complementarità analogo a quello fittizio naturalmente fatto per come dire ad uso e consumo di questa presentazione della forma e del colore la forma e il colore sono entrambi quantità quella era una analogia o forse addirittura una metafora ok quindi bene abbiamo il concetto di complementarità il quale se ne porta degli altri perché a questo punto signori se noi non sappiamo più qual è la posizione di una particella non sappiamo più qual è il suo momento improvvisamente scopriamo che le particelle e i loro moti cominciano a somigliare a delle onde perché un'onda immaginate un'onda semplice come dire descritta da una funzione sinusoidale da una funzione armonica semplice l'onda come dire con delle creste e delle gole regolare un'onda non è un oggetto che ha una posizione nello spazio per definizione un'onda pensate a un'onda sonora a un'onda del mare a un'onda elettromagnetica è un oggetto esteso è un oggetto che come dire si disperde nello spazio quindi non ha una ben definita posizione ok quindi il principio di Heisenberg ci porta al concetto di comportamento di tipo ondulatorio delle particelle perché anche un'onda in realtà facendo interferenza di tante onde sommandole e queste possono avere interferenza sia positiva e la chiamiamo costruttiva in senso sommando le due onde l'intensità che noi otteniamo diventa più grande oppure distruttiva in questo caso l'intensità che otteniamo sommandole in realtà è inferiore come se fosse una sottrazione allora se noi sommiamo facciamo interferire tante onde possiamo costruire dei profili d'onda che sono più localizzati ma anche nel caso della meccanica odulatoria è facile vedere qualora si possieda il giusto formalismo che per gli addetti è la trasformata di Fourier che più determiniamo più localizziamo nello spazio l'onda meno è determinato più abbiamo bisogno di ondicine semplici ondicelle semplici abbiamo bisogno di tante frequenze ma la frequenza corrisponde alla velocità della particella e quindi rendiamo indeterminata la velocità viceversa se rendiamo perfettamente determinata la velocità cioè la frequenza quindi abbiamo un'onda semplice con una sinusoide beh questa allora non ha più nessuna localizzazione di nessun tipo quindi vediamo che determinare con precisione la velocità comporta necessariamente una perdita di conoscenza sulle proprietà di localizzazione della particella ok quindi il principio di sovrapposizione è questo che noi possiamo essere in più posti allo stesso tempo questo famosamente è stato confermato da un esperimento che è prima concettuale poi è diventato anche molti anni dopo in realtà esperimentale abbiamo questo il famoso double slit l'esperimento della doppia fenditura abbiamo un cannone naturalmente salto i dettagli tecnici che spara degli elettroni quindi quello che dovrebbe essere particella abbiamo una doppia fenditura quello che si osserva in uno schermo che venga posto di fronte alla doppia fenditura è in realtà una cosa straordinariamente sorprendente perché diciamo se fosse solo aperta la fenditura di destra voi immaginate che avreste qua molti elettroni che arrivano qua dove è indicato dal colore più intenso l'intensità del colore di queste strisce denota la probabilità che un elettrone colpisca lo schermo ok se io apro solo quella di destra vedreste una cosa molto nera di qua se apro quella di sinistra vedreste una cosa molto nera di qua se voi aprite entrambe le fenditure vi immaginereste una sorta di cosa media in cui diciamo c'è molto nero in mezzo e via via sbiadisce cioè la probabilità che gli elettroni arrivino sullo schermo sbiadisce via via che ci allontaniamo dalla posizione corrispondente alle fenditure ma come vedete come è dipinto in questo grafico questo non è quello che cade quello che osserviamo osserviamo delle strisce di interferenza cioè ci sono dei punti in cui abbiamo sono molto scuri quindi significa che probabilisticamente gli elettroni arrivano con elevata probabilità e punti che sono bianchi il che significa che gli elettroni non arrivano affatto questo è un comportamento interferenziale che è proprio delle onde ma in questo caso viene osservato a livello di particelle materiali quindi diciamo la complementarità quando la applichiamo alle variabili di posizione e velocità comporta un comportamento comporta perdonatemi determina un comportamento di natura ondulatoria delle particelle quindi l'assenza di localizzazione e al tempo stesso si porta dietro un'altra proprietà tipica delle onde cioè quello dei processi interferenziali ok quindi qua abbiamo dove ce n'era un'interferenza positiva quindi si sommano molti elettroni dove vediamo bianco non arrivano elettroni in questo caso le onde che sono generate dalla prima le onde elettroniche quindi matters wave onde di materia generate dalla prima e dalla seconda fenditura hanno un pattern una configurazione interferenziale che è alternativamente costruttiva e positiva che dà origine a questa cosa qua ok Claudio ci siamo? ci siamo ci siamo ci siamo abbastanza insomma ci siamo abbastanza ci siamo abbastanza è importante è importante perché fino adesso abbiamo giocato adesso calo calo l'asso di briscola non so se si dica così in realtà non ci sono gli assi a briscola no? sì certo che ci sono faccio finta di attingere alla mia alla mia heritage emiliana ma faccio fatica allora l'ultima proprietà che mette insieme un pochino tutte queste che distingue radicalmente ma in una maniera così radicale che gli stessi padri fondatori e qua ci arriviamo alcuni dei padri fondatori della meccanica quantistica quando sono arrivati lì hanno detto e io qua mi fermo letteralmente fermate il mondo io scendo cioè io non ci sto più questo gioco non lo faccio più perché it's just too crazy è troppo pazzo in top incredibile è quello del quantum entanglement entanglement è una parola che vuole dire intreccio intreccio quantistico cosa vuole dire che a livello di particelle quantistiche si creano delle correlazioni che non hanno nessun analogo a livello classico e questo porta ha portato è stato scoperto dallo stesso lo stesso Heye e lo stesso Schrödinger che in un paper credo del 35 fa notare che se tu hai un sistema di due particelle accadono cose strane molto strane in realtà troppo strane per essere vere e a quel punto appunto come dicevo scende dal carro della meccanica quantistica Einstein che tu hai citato prima Einstein è anche uno dei padri fondatori della meccanica quantistica Einstein prende vi ricordo ti ricordo Claudio che il premio Nobel di Einstein non è per la relatività né ristretta né generale Einstein nel 19 vince il premio Nobel per la spiegazione dell'effetto fotoelettrico nel quale io nei dettagli del quale io non entrerò ma è stato uno dei problemi sperimentali fondamentali che la fisica classica era incapace di risolvere e che è stato risolto assieme alla struttura e alla stabilità atomica agli spettri di atomi e molecole allo spettro di emissione del corpo nero c'era una lista di problemi che la meccanica classica aveva risolto quasi tutto ma c'erano alcune piccole nubi all'orizzonte che tutti si immaginavano sarebbero state risolte nel giro di pochi anni tant'è che a Max Planck fu consigliato di fare altro nella vita di fare il matematico o il violinista ma la fisica insomma era meglio che la lasciasse perdere perché non c'era più nulla di interessante Max Planck è un altro dei grandi padri fondatori mi perdona mi perdonerà se non ho messo la sua foto allora fra i padri fondatori c'è Einstein però Einstein qua scende perché qua succedono delle cose qua scende lo vedete qua con la sua pipa in mano con un'aria un po' scansonata e dall'altra parte non poteva mancare un altro padre fondatore in realtà in qualche modo quelli che li ha guidati tutti il grande fisico danese Niels Bohr allora Niels Bohr e Einstein hanno avuto un grande dibattito su quello che si chiama il paradosso EPR EPR Einstein Podolsky Rosen dai nomi dei tre autori di questo paper credetemi leggendario apparso sul Physical Review nel 1935 in cui discutono un aspetto paradossale e quindi al loro modo di vedere indicativo di un problema radicale della meccanica quantistica che è il paradosso EPR cosa succede? Voi potete avere una sorgente che emette due particelle immaginate una particella che vola di qua nel laboratorio di questa signorina che si chiama Alice e un'altra che vola di qua nel laboratorio di questo energumeno che si chiama Bob oppure per non fare delle distinzioni di genere entrambi sono uomini questo Alice Cooper e questo è Bob Marley ok? Allora Alice Cooper ha una particella e Bob Marley ne ha un'altra e queste possono essere arbitrariamente lontane uno è a Los Angeles e l'altro a Kingston in Jamaica ok? Però quello che succede è questo grafico qua indica una proprietà della particella che si chiama lo spin ma immaginate visto che non possiamo entrare nel dettaglio che sia il colore allora quello che succede è che ogni qualvolta Alice misura la sua particella questa è nera ed ogni qualvolta Bob misura la corrispondente particella che è stata generata da questo processo la trova bianca e viceversa ogni qualvolta Bob la trova nera allora Alice la trova bianca questi hanno una correlazione tra di loro conoscerne una vuole dire che improvvisamente conosce un'altra senza fare la misura Alice mi ripeto misura la sua particella dice il risultato dice black è nera allora lei immediatamente sa senza effettuare nessuna misura che la corrispondente particella che costituisce come dire l'altro elemento in questo pair in questo paio di in questa coppia di particelle EPR è bianca e viceversa allora dice vabbè sono correlate ma dice strano well not really non veramente giusto supponete che io abbia due i famosi due sassolini uno bianco e uno nero ve li do dentro un sacchetto uno lo do a Claudio l'altro lo do a Simone e a questo punto loro non lo sanno ma quando Claudio apre il suo sacchetto e scopre che la particella è bianca lui sa con probabilità uno cioè al 100% che Simone avrà una particella nera e viceversa se Simone osserva aprendo il sacchetto che la sua particella è bianca allora saprà che Claudio ha con probabilità uno cioè 100% una particella bianca questa è una correlazione ma quello che succede è che questa è una correlazione più forte di quelle classiche cioè vale per tutta una serie di osservazioni supponete che adesso quei sassolini siano di nuovo di quella tipologia che descrivevo prima oltre a avere un colore hanno una forma allora a questo punto succede la stessa cosa Alice Cooper misura osserva la forma della particella del sassolino in questo caso e trova che è quadrato allora necessariamente Bob avrà un sassolino che è rotondo viceversa se Bob trova quadrato Alice troverà rotondo sono correlati o in questo caso ma è solo per via del particolare esempio che ho deciso di condividere sono anticorrelate come dire la proprietà di una particella esattamente l'opposto di quella per le altre e questo varrebbe per tutte le proprietà che io posso misurare non solo per la posizione o per il colore e la shape e la forma ma anche per esempio diciamo per la posizione e il momento e così via questa perfetta correlazione quantistica di particelle che ormai sono lontanissime in principio Alice potrebbe avere il suo laboratorio su Andromeda e Bob di nuovo in Kingston Jamaica perché lui piace stare lì ok allora questa correlazione su tutte le possibili tipologie di misure che possiamo fare è un qualcosa che non ha nessun analogo nella fisica classica e notate bene che prima vi ho detto che o misurate la posizione o diciamo la forma o il colore ma non potete saperle entrambe perché conoscere uno preclude la conoscenza della seconda in questo caso voi notate che sembrerebbe che avete girato intorno a sto problema facendo Alice misura il colore ok e sa esattamente qual è il colore anche di Bob e viceversa può misurare la posizione scusate la forma la forma e determina quella di Bob senza fare niente a Bob sembra che io senza effettuare nessuna operazione di misura nel laboratorio di Bob che appunto magari è in Giamaica ok io ho imparato sembrerebbe sia la posizione che scusatemi sia la forma che il colore allora questo sembrerebbe andare al di là di quello che ci dice la meccanica quantistica in questo senso è per questo che il signore EPR Einstein Podolski e Rosen dicono la meccanica quantistica in realtà è una teoria incompleta non sappiamo tutto perché ci sono delle cose che devono essere reali perché insomma io ho imparato due proprietà di Bob con probabilità uno senza neanche toccarlo Bob queste devono essere proprietà che appartengono alla realtà oggettiva quale che essa sia una teoria deve essere in grado di darmi conto di queste proprietà la meccanica quantistica non lo può fare perché appunto c'è questa complementarità Einstein Podolski concludo la meccanica quantistica non è sbagliata è incompleta esiste un modo che loro non sapevano ancora configurare ma che naturalmente si auspicavano fosse dietro l'angolo di estendere la meccanica quantistica in modo da ridurre di nuovo l'indeterminismo e l'utilizzo delle probabilità da ontico a epistemico cioè in realtà le probabilità meccanica quantistica sono come quelle loro sostenevano della meccanica classica semplicemente non sappiamo abbastanza non abbiamo abbastanza informazione su tutti i gradi di libertà del sistema ci sono dei gradi di libertà del sistema le cosiddette variabili nascoste che qualora noi le conoscessimo allora sapremmo tutto e come dire sapremmo forma e colore posizione momento e così via al tempo stesso quindi grande critica di Einstein Podolski e Rosen quindi l'entanglement mi ripeto l'esistenza di correlazioni unicamente quantistica che non è nessun corrispettivo a livello classico che ho cercato naturalmente in modo sommario e forse confuso di condividere con voi è un'altra probabilità è un'altra proprietà fondamentale della meccanica quantistica c'è un altro modo di dirlo Claudio se noi meccanica classica conosciamo tutto di un sistema di due particelle vuol dire che sappiamo la posizione e la velocità di queste particelle quindi a maggior ragione a fortiori noi conosciamo le probabilità le proprietà di un sottosistema dici di una particella è per forza in meccanica quantistica le cose stanno molto diversamente io posso conoscere perfettamente nella misura in cui mi è permesso dal formalismo della meccanica quantistica la proprietà globali di un sistema per esempio di un sistema di due particelle cioè conoscere la funzione d'onda psi o psi ok di Schrodinger ma quando io faccio delle domande sul sottosistema scopro che la mia conoscenza è sotto ottimale cioè anche laddove avevo una qualche forma di determinismo a livello globale a livello locale cioè rispetto ai gradi di libertà di un sottosistema sono di nuovo costretto a ricorrere a delle descrizioni probabilistiche questo accade qualora la funzione d'onda complessiva del sistema abbia per l'appunto questa proprietà che chiamiamo quantum entanglement ok quindi questa è la risposta alla tua domanda cos'è che differenzia in modo essenziale almeno come dire secondo l'opinione del sottoscritto la meccanica classica della meccanica quantistica beh devo dire che sei stato bravissimo hai fatto uno sforzo si sono molto chiaro molto chiaro nella misura in cui non si capisce mica tanto molto chiaro nell'oscurità ecco vabbè ma tu sai che la verità è svelata è la lezzeia giusto quindi bisogna alzare questo velo laddove prima avere necessariamente un'oscurità no avrei tante domande da farti però siccome c'eravamo fatti una scaletta che peraltro stiamo frantumando però voglio essere franco con te la scaletta sarà difficile è puramente indicativa ecco però puramente indicativa almeno le altre due domande che sono quelle che danno titolo un pochino alla conferenza mi piacerebbe che tu ce le spiegassi ecco poi vediamo che la facciamo molto volentieri Claudio però adesso mi concederai sarò un pochino più veloce quindi necessariamente superficiale non che io adesso non lo sia stato ma ho cercato sai la deformazione professionale di essere il quanto più chiaro possibile anche facendo ricorsi a un pochino di ripetizioni sai ripetita a Juvent il professore è un pochino vittima di questo no no ma quello è verissimo comunque ti fanno i complimenti ecco quindi anche quindi vuol dire che sei il nostro vasto pubblico esatto esatto i followers senti allora la seconda cosa che ti volevo chiedere era se tu riuscivi a spiegarci a questo povero un gruppo di filosofi in carta pecoriti che ancora leggano addirittura Tommaso d'Aquino Florenski Severino Severino moderno almeno insomma se riuscivi a spiegarci la differenza che c'è tra un computer diciamo tradizionale fra virgolette e un computer quantistico si parla moltissimo di questi computer quantistici si saranno potenziali non so se riesci a dircela perché io qua proprio cioè mentre queste cose vabbè magari nei testi di divulgazione in qualche modo riesci a rintracciare ecco io francamente su questo proprio non so nulla c'è la differenza quando si parla di computer quantistico per me boh non so di cosa allora Claudio grazie della domanda che naturalmente mi avevi anticipato quindi ho preparato un paio di slides di nuovo allora in effetti lo stai domandando la persona giusta ci lavoro da 25 anni sui computer quantistici e seppure con un angolo molto molto concettuale molto teoretico molto matematico però diciamo quello è il mio campo allora naturalmente sono nello stesso situazione nello stesso angolo in cui mi hai messo quando mi dici spiegami la differenza fra meccanica classica e meccanica quantistica perché io non posso assumere che il nostro pubblico assolutamente colto e curioso però abbia in realtà nella maggior parte dei casi una cognizione di che cos'è un computer ed intendo dal punto di vista eminentemente squisitamente concettuale quindi prima mi fate dire che cos'è la teoria della computazione classica poi vi dico cos'è la teoria della computazione quantistica è necessario ecco quindi è necessario ciò che è necessario per definizione tu mi insegni è inevitabile perché qualora fosse evitabile allora non sarebbe necessario e Severino insomma ci castiga va bene computazione classica cos'è la computazione computazione vuole dire prendere dei dati in ingresso elaborarli fare un processing e ottenere dei dati in uscita in output ok cosa vuol dire dei dati avete due numeri 3 e 4 li volete per esempio sommare la somma è l'elemento di elaborazione processing cosa ho detto 7 e 3 o 4 e 3 insomma li sommate e ottenete il risultato li moltiplicate oppure può essere una cosa anche non numerica ovviamente questo può essere il dato in ingresso può essere un file l'elaborazione può essere uno zipping cioè un processo di compressione che riduce come dire la quantità di memoria che occupa sul vostro disco e l'output è il file compresso oppure il data in è una vostra picture in cui sembrate grassi e fate un photoshop questo è il processing e qualora non vi piaccia sembrare grassi vi smagrite oppure se eravate troppo magri vi ingrassate ok quello che facciamo tutti cioè l'elaborazione dei dati soprattutto nella società digitale in cui viviamo chiaramente è onnipresente siamo circondati in questo preciso momento da un oggetto che sta facendo un'infinita si fa per dire un numero astronomico di computazioni che sono esattamente il mondo questa elaborazione di dati in ingresso che vengono manipolati per ottenere dati in uscita allora i dati allora qua forse sarò adesso magari la macchina di Turing ve la faccio ve la faccio solo vedere così allora chi sono i padri della teoria della computazione beh il grandissimo il gigantesco Alan Turing queste persone qua a parte che l'uomo che ha decifrato Enigma che era il codice criptografico dei nazisti questo uomo qua questo signore qua che poi è stato molto mal ripagato dalla sua nezione e non c'entrerò ha dato un contributo alla seconda guerra mondiale insostituibile ok ma è anche il padre della teoria della computazione cioè della teoria matematica dei computer è inventata una cosiddetta macchina di Turing che però questa l'assalto perché effettivamente come dire piuttosto che farla male l'assalto e passo direttamente un altro modello di computazione che è quello delle reti booleane cosa intendo? allora sì non so perché sparisca cosa intendo? i dati e voi lo sapete benissimo lo sappiamo ormai tutti perché immaginiamo dei dati che sono memorizzati in un computer nel computer tutti sappiamo che i dati sono delle sequenze delle stringhe di bits delle configurazioni di 0 e 1 cioè di dati binari qualunque sia il linguaggio qualunque sia l'alfabeto in cui voi descrivete codificate i vostri dati potete sempre tradurlo in binario e questo credo che sia abbastanza ovvio ed è comunque quello che tutti noi sappiamo accade in ogni momento della nostra vita quando abbiamo a che fare con i computer digitali allora da questo punto di vista abbiamo una semplificazione concettuale l'unica cosa che dobbiamo formalizzare e capire concettualmente come funziona è come trasformare delle stringhe binarie in altre stringhe binarie perché tutti i dati ultimativamente possono essere tradotti in stringhe binarie allora questa trasformazione da una stringa binarie da una configurazione di 0,1 a un'altra configurazione di 0,1 secondo un determinato algoritmo una determinata sequenza codificata di elaborazione può essere sempre descritta in termini di una funzione booleana cos'è una funzione booleana? è una rete di gates di operazioni logiche elementari che prendono per esempio i bits A, B, C e D questi sono dei bit dovete immaginare che il tempo si dispieghi da destra verso sinistra prima l'input A e B viene fornito a questa porta logica ecco porta logica questo è un OR è un AND da sinistra verso destra questo è un AND che fa la congiunzione logica qua il nostro host stasera è un logico quindi non dovrò certamente spiegare a lui cosa sia una congiunzione logica è il prodotto binario e qui abbiamo C e D che vengono a loro volta processati da una porta logica di tipo AND volevo dirti scusa perché avevo mutato il microfono magari spiegalo però io fin qua ci arrivo però magari se non dà la prescoltà c'è quello che dovete immaginare è che questo fa una certa operazione che prende come input A e B e sputta fuori un output in particolare in questo caso se A e B sono binari sono degli 0 e degli 1 fa il prodotto quindi questa roba qua Y1 sarà 0 tutte le volte a meno che entrambi A e B siano 1 ok perché in tutte le altre configurazioni hai almeno uno 0 e quindi il loro prodotto farà 0 questa è esattamente la probabilità la proprietà mi scuso che a livello di funzioni logiche elementari ha la congiunzione la congiunzione di due proposizioni è vera se soltanto se entrambe sono vere e se noi associamo al valore logico vero il valore binario 1 e al valore logico falso il valore binario 0 questo è esattamente quello che fa l'end a questo punto i due gli output quindi gli end le congiunzioni logiche di A e B e di C e D vengono di nuovo operate processate da una porta logica che in questo esempino qua è di nuovo vuole solo essere un esempio naturalmente è di nuovo un end quindi ho preso 4 bit e ne ho fatto la loro congiunzione logica se volete questo output qua che vuole solo essere un esempio di funzione booleana che sono come dire named after hanno questo nome grazie a Sir George Boo il fondatore della logica formale moderna ok questa sarà 1 se soltanto se tutti A, B, C e D sono entrambi 1 sono veri viceversa non appena 1 di queste variabili assuma il valore 0 1 o più di 1 assuma il valore 0 l'output sarà 0 ma questo non è importante questo vi sta semplicemente dicendo che noi possiamo descrivere una funzione booleana in questo particolare caso una elaborazione un algoritmo che mi trasforma 4 variabili booleane cioè binarie in ingresso in una in uscita ok e questo può essere scritto da un circuito di porte logiche ok chiaro Claudio questi sono esattamente quei circuiti che abbiamo naturalmente nel caso realistico infinitamente più complessi dentro ai nostri telefoni cellulare ai nostri computer e a tutti i dispositivi elettronici quindi noi trasformiamo un algoritmo che è un'elaborazione di dati binari che vengono trasformati in altri dati binari viene decomposto in una combinatoria in una combinazione di porte logiche elementari che in questo caso era land ma possono essere una disgiunzione logica lore che è una sorta di somma logica e via dicendo ok benissimo cosa accade in quantum computation benissimo allora quantum computation è uguale signori perché sparisca questo è un mistero della fisica la quantum computation soprattutto se siete in America viene attribuita al signor Richard Feynman che qua come vedete si sta molto divertendo col drink e la sigaretta ok e la stessa cosa abbiamo dei data dei dati in ingresso che però a questo punto saranno dei dati quantistici e se avete pazienza un secondo vi spiego cosa intendo per quello queste verranno elaborati a questo punto da una rete di porte logiche a sua volta quantistica per generare dei dati in ingresso che sono quantistici l'idea di quantum computation in realtà è più dovuta a questo signore qua il grande David Deutsch ok di Oxford che nel 1985 ha fatto diventare delle idee molto geniali ma anche al tempo stesso molto vaghe di Feynman invece in un programma di ricerca che poi ha dato origine alla rivoluzione che stiamo vivendo in questi decenni in particolare in questi anni in cui la computazione quantistica è ormai un fatto tecnologico ok quando io ero giovane la facevamo noi nei laboratori adesso la fanno Microsoft Intel Google IBM and so on and so forth milioni milioni e talvolta bilioni di dollari in questo gioco ok cosa succede il primo step dobbiamo capire come codificare le informazioni prima erano variabili binarie o zero o uno i famosi bits ora li facciamo diventare dei quantum bit un quantum bit è un bit quantistico che visto che può essere in una sovrapposizione di stati può esistere in più configurazioni allo stesso tempo così come un'onda può essere in più posizioni dello spazio allo stesso tempo allora dovete immaginare che sia come un vettore qua l'immagine un po' complicata questa è tecnicamente quella che si chiama la sfera di Bloch ma dovete immaginare che può essere zero in questo caso questo vettore qua che punta verso l'alto oppure può essere diciamo uno e lo dovete immaginare come un vettore che punta verso il basso ma può essere una sovrapposizione di queste due configurazioni al tempo stesso cioè non è necessariamente o nello stato zero o nello stato uno ma può essere una combinazione lineare si dice in modo tecnico che è geometricamente rappresentata da tutti i vettori possibili in questa sfera voi disegnate un qualunque vettorino la cui origine sia l'origine della sfera e la cui come dire dove ci sta la punta sia sulla superficie della sfera questo rappresenta un particolare stato quantistico una particolare modalità in cui zero e uno sono in combinazione quindi mentre ridico e mi muovo mentre una variabile binaria può essere o solo zero o uno questo può essere al tempo stesso in infiniti modi diversi una combinazione di zero e di uno che graficamente almeno per quelli di voi che come dire hanno una familiarità sufficiente con i grafici viene rappresentato da questo oggetto allora questo è il primo elemento i dati quantistici sono codificati in quantum bits che noi chiamiamo qubits quindi un qubit che cos'è è una variabile binaria quantistica che può esistere scusa Paolo ti posso fare una domanda certo no perché allora un bit è zero o uno no così ci hanno ci hanno insegnato sì sì ma abbiamo insegnato ecco io non capisco ma un bit quantistico è un se ho capito bene ripeto quello che hai detto tu sono infinite combinazioni di zero e uno possibili quindi c'è una quantità di informazioni enorme mentre zero e uno è il minimo di informazione possibile è l'atomo dell'informazione esattamente il bit quantistico come l'hai descritto tu c'è un'enormità di informazioni possibili possibili però tu mi insegni che la potenza è l'atto e qua mi invoco come dire il tuo background filosofico sono due cose molto diverse perché alla fine questo la descrizione che ti sto dando in termini di sovrapposizioni la cui corrispondente descrizione geometrica è data da tutti i vettori della sfera di bloc questa è la funzione d'onda ma la funzione d'onda come ti ho detto non è un elemento di realtà la realtà diciamo quello che noi misuriamo sperimentalmente sono gli output sono i risultati di misure a questo punto quando tu misuri il bit quantistico in realtà lo trovi sempre perché è come il gatto di Schrödinger il gatto di Schrödinger il famoso gatto di Schrödinger che è una sovrapposizione quantistica di essere vivo e di essere morto però quando tu apri la famosa finestrella per controllare lo stato di salute del tuo micio o lo trovi o vivo o morto similarmente il qubit quantistico il qubit può essere potenzialmente a livello di sovrapposizione quantistica in infiniti stati ma ogni qualvolta noi effettuiamo una misura lo troviamo che o è 0 o è 1 cioè lo collassiamo di nuovo in un dato che è binario è un po' più complicata ok però hai ragione infatti uno dovrebbe dire ah wow per forza la computazione quantistica è infinitamente più potente perché già l'atomo di informazione sembra contenere un infinito infatti un continuo di possibilità che naturalmente come dire è infinitamente superiore a questa semplice scelta binaria che appare nel caso classico però la verità come dire la verità la successiva considerazione che poi dal punto di vista empirico quando tu fai la misura torni a 0 ma ciò non di meno ed è quello che sto cercando di dirvi è la meccanica quantistica applicata alla teoria della computazione e darà dei risultati straordinari però prima devo dire qual è l'analogo delle porte logiche degli end degli or e così via beh le porte logiche i gates diventano sembra quasi una barzelletta diventano così come un bit diventa un quantum bit un quantum gate un gate diventa un quantum gate sono delle particolari operazioni che noi facciamo su questi qubit che hanno una corrispondenza fisica e nel formalismo cioè possiamo realizzare in laboratorio sono delle trasformazioni sono delle trasformazioni dinamiche quantistiche che possono venire ingenerizzate realizzate nei laboratori che dal punto di vista matematico ma qua è veramente così una nota quasi vezzosa Claudio una domanda ogni tanto spariscono le immagini o spariscono solo a me? ogni tanto spariscono però riappaiono appena sarà un effetto quantistico immagino no? penso c'è una fluttuazione quantistica nel momento in cui guardo appare quando non la guardo non lo so cosa succede comunque ogni tanto va via poi dopo ritorna al di là delle battute si ma ritorna perché ci sono io col ditino cioè l'intervento dell'essere umano allora come vedete adesso qua c'è un grafichetto che di nuovo ha un semplice scopo illustrativo che è analogo a quelli che abbiamo visto per il caso classico qua abbiamo una notazione strana vuole dire che abbiamo tre quantum qubit che entrano all'interno di questo circuito ciascuno di queste scatoline e uno di questi porte logiche quantistiche o dal punto di vista formale operatore unitario che trasforma lo stato quantistico vedete che ci sono quelli che agiscono su un filo e basta vuole dire che questo è una porta logica a singolo qubit cioè un'interazione che riguarda un singolo qubit ma ci sono altre porte logiche che come vedete vanno per esempio da qua da x0 a x1 facendo una cosa strana che qua è indicato con r4 ma non ha importanza queste sono porte logiche così come lo era l'or o l'end cioè sono porte logiche che coinvolgono due bit o qubit per essere più precisi al tempo stesso cioè dal punto di vista fisico questo necessita delle interazioni fra il qubit 1 e il qubit 2 naturalmente i qubit alla fine saranno dei sistemi fisici possono essere dei fotoni possono essere degli atomi possono essere degli elettroni possono essere dei dispositivi a superconduttore dovete sempre immaginare che al di là al dietro a questo formalismo o davanti se volete c'è una realtà fisica quindi quello che io ho fatto ho codificato l'informazione nello stato di 3 quantum bits ho effettuato in sequenza una serie di operazioni logiche cioè di gate quantistici o operatori unitari e trovo come output y2 y1 y0 adesso non so perché vengono labellate in questo modo però esattamente quello che accadeva fammi velocissimo come faccio lezione tornare indietro qua semplicemente che questi erano bits mentre ora sono quantum bits queste erano porte logiche diciamo tradizionali booleane mentre in questo caso qua sono porte logiche quantistiche ok che trasformano se volete sono rotazioni in questa sfera qua prendo uno stato quantistico che è rappresentato da un vettore e quello che una di queste operazioni per esempio h che è la famosa Hadamard gate il gate la porta logica di Hadamard Hadamard era un signore ok corrisponde a una rotazione del corrispondente vettore nella sfera di blocco ok quindi faccio una trasformazione dinamica di questo benissimo se abbiamo capito questo siamo siamo in great shape perché cosa sono allora gli algoritmi quantistici sono semplicemente delle reti logiche quantistiche complesse che danno che realizzano un particolare goal un determinato obiettivo computazionale cos'è che rende gli algoritmi quantistici straordinariamente almeno in principio più potenti è il parallelismo quantistico perché allora voi immaginate al di là come dire del significato specifico di questi simboli dovete immaginare che qua arrivano i qubit qua ne abbiamo quattro e qua escono i qubit dopo che gli abbiamo fatto delle robe delle robe quantistiche che sono l'analogo per l'appunto quantistico di quello che accade ai poveri bit classici però dovete immaginare che questo è semplicemente dei dati in ingresso e dati in uscita questo sta calcolando una funzione ok una funzione dell'ingresso che spara fuori l'uscita però Paolo scusa giusto per capire i dati in ingresso sono i Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 assolutamente e quelli in uscita cosa sono tutti quelli z allora qua naturalmente questo z sono comunque quelli dall'altra parte no no ma grazie Claudio perché qua non c'è ovviamente io non capisco l'auto hai capito dov'è l'intro ovviamente come nei circuiti classici qua qua non c'è la notazione e ragione avrei potuto anche qua non vediamo il tuo cursore quindi bisogna che lo descrivi ah non lo vedete no ah quindi tu stai dicendo che un'ora e mezza che io immagino che voi seguiate no dai per adesso non era si seguiva ecco anche perché ho capito quindi ho vissuto in una realtà quando dici destra sinistra e quindi siamo a poche ho vissuto in una realtà alternativa un pochino come come tanti nel mio caso ma in questo caso ecco se ci descrivi l'output è quello dall'altra parte l'output è quello a destra e questi z che vedete vuol dire solo che alla fine tu devi fare una misura perché alla fine dobbiamo come dire passare dall'empireo delle possibilità astratte a quelle come dire dei dati fisici ok che vengono qua quindi è semplicemente una misura entrano a sinistra come dicevo il tempo fluisce da sinistra a destra e vengono sputati fuori a destra ok allora questo è un algoritmo quantistico dal punto di vista ingegneristico devo costruire un network di porte logiche quantistiche che elaborino dei dati in ingresso per produrre dei dati in uscita matematicamente potete immaginare che è una funzione ma allora signori vi ho detto che un sistema quantistico può esistere in una sovrapposizione di tante posizioni di tante configurazioni allora immaginate io ho un qubit un qubit diciamo ha due possibili valori quando lo misurate 0 e 1 se adesso ne avete due avete quattro possibilità giusto 0 0 0 0 1 1 0 1 1 se ne avete tre ne avete otto e così via se ho n qubit ho due alla n cioè un numero esponenzialmente grande di possibili configurazioni di ingresso ok allora io adesso posso creare con una particolare network che qua non c'è ma è facile come dire da concepire una preparazione del sistema al tempo t uguale a 0 che faccia sì che il mio sistema che il mio insieme di qubit venga preparato venga proposto al network che implementa l'algoritmo quantistico in una sovrapposizione di tutti i possibili stati la meccanica quantistica è lineare significa che questo network qua vi sputerà fuori una sovrapposizione di tutti i possibili risultati 2 alla n che diventa un numero grandissimo molto molto rapidamente per via delle proprietà in questo periodo tristemente noto della funzione esponenziale che cresce con una rapidità esorbitante però io con un singolo run con una singola chiamata di questa routine quantistica io ho in principio calcolato questa funzione per un numero esponenzialmente grande di dati di ingresso a livello classico avrei dovuto farlo in modo sequenziale avrei dovuto fare prima l'input per la configurazione 0 0 0 poi l'input per la configurazione 0 1 0 0 così avrei dovuto farlo 2 alla n volte mentre grazie a questo parallelismo quantistico la possibilità di esistere dei dati quantistici in una sovrapposizione simultanea di tutte le possibili configurazioni di ingresso e alla natura lineare dell'evoluzione quantistica descritta dal quantum network dall'algoritmo qua io ho fatto in una volta solo calcolato un numero esponenzialmente grande di dati dopodiché non sono a posto perché come vi ho detto poi come dire il trucco il diavolo the devil is in the details right cioè devo poi estrarre questa informazione e questa estrazione in questo caso è descritta da queste z come vedete con questo indicatore proprio che indica come dire il metro di uno strumento di misura meter avete capito cosa intendo la lancetta che indica il risultato quindi queste z con lancetta indicano semplicemente che alla fine io devo fare una misura del sistema allora qua questa gigantesca sovrapposizione di dati e di computazione che ho fatto ripeto con un singolo run con un singolo chiamata dell'algoritmo quantistico però devo estrarre l'informazione che mi interessa e lì diventa la parte molto complicata a questo punto devo utilizzare l'interference cioè l'interferenza devo fare in modo che come dire l'interferenza sia costruttiva cioè massima positiva nelle parti della funzione d'onda che come dire che mi interessano dato questo algoritmo dato il particolare problema computazionale che questo network è disegnato per risolvere e per fare quello devo usare anche l'entanglement qua ragazzi si entra in un mondo molto complesso però l'idea che usando il parallelismo quantistico che vi ho appena descritto più le proprietà di interferenza che sono di nuovo un regalo che ci dà la natura ondulatoria delle particelle quantistiche o se volete la complementarità più questa misteriosa super correlazione quantistica che si chiama entanglement si possono disegnare progettare degli algoritmi quantistici che fanno delle cose che che nessun algoritmo classico può fare nel 1994 bevo Peter Shore eccolo qua il grande Peter che ci ha dato a tutti noi il lavoro per 25 anni e per molti a seguire ha inventato un algoritmo che risolve questo problema io vi do un numero n grande 100 cifre decimali 200 cifre decimali e vi chiedo di farne la fattorizzazione in numeri primi questo è un problema che dal punto di vista computazionale classico è un problema molto molto difficile vuole dire che il tempo necessario per risolverlo cioè dato il numero n trovare i numeri P e Q primi tali per cui il loro prodotto mi di n cioè costituiscono una fattorizzazione prima di n e nel caso by the way vi chiedeste se questo ha qualche importanza pratica la risposta è sì tantissimo perché tutta la criptografia chiave pubblica è basata sul fatto che questo specifico problema numerico di teoria dei numeri sia molto difficile di fatto così difficile che è praticamente impossibile per i computer classici beh se voi lo fate con un algoritmo quantistico cioè Peter nel 94 era un ricercatore AT&T Bell Labs ha inventato un algoritmo che lo fa esponenzialmente più veloce di un computer classico di ogni computer classico al momento che noi siamo in grado di concepire in questo momento e con tutta verosimiglianza di qualunque algoritmo classico noi saremo mai in grado di concepire voglio dire il computer di Shor l'algoritmo di Shor qualora fosse possibile implementarlo in un dispositivo reale e ancora come dire metto le mani avanti come si dice non è così perché è un algoritmo comunque molto complesso una rete quantistica molto più complessa di quella che vedete disegnata qua questo è di nuovo uno scopo essenzialmente illustrativo beh il computer l'algoritmo di Shor può in due settimane risolvere problemi che sui computer il miglior computer del mondo adesso ci vorrebbero più dell'età dell'universo quindi capite un vantaggio anche pratico qualora vi ho promesso che le cose stanno così cioè vi ho promesso quindi vi chiedo di credermi che questo è un problema praticamente rilevante questo algoritmo di Shor usando parallelismo quantistico interferenza ed entanglement permette di risolvere un problema importante in tempi infinitamente più veloci di ogni algoritmo classico un altro grande esempio è l'algoritmo di Shor di Grover eccolo qua il grandissimo Love Grover una persona amabile che vuole solo come dire dedicato a fare good things e lui ha inventato questo algoritmo supponete di dover cercare in un database che ha n possibili come dire slot n possibili celle in cui contiene l'informazione voi cercate un particolare item una particolare cosa diciamo quel libro che cercate l'unica cosa che potete fare è andare attraverso uno alla volta n dove n è un numero molto alto scaffali finché non trovate il libro quanto ci mettete in media beh ci mettete un tempo che sarà direttamente proporzionale a n perché se siete fortunati lo trovate al primo scaffale se siete sfortunati e chissà perché tendiamo a esserlo lo trovate all'ultimo in media lo troverete n diviso 2 ok quindi il tempo il running time il tempo computazionale per identificare in un database senza struttura come può essere appunto una libreria in cui non è come dire non è che c'è le librerie infatti non sono così sono organizzate con degli indici alfabetici ma ammettete di cercare i libri in una biblioteca in cui qualche come dire come si dice qualche matacchione abbia tolto le etichette e voi dovete andare in modo random capite che questa è la situazione in cui siete trovare veramente the needle in the haystack il famoso ago nel pagliaio benissimo Grover ha dimostrato nel 1997 un algoritmo quantistico di nuovo basato su parallelismo interferenza e in questo caso non entenglement o apparentemente non entenglement ma qua è una questione tecnica che di nuovo puoi avere questo risultato puoi risolvere questo problema computazionale in un tempo molto molto più breve rispetto agli algoritmi classici che di fatto scalano come si dice il cui tempo computazionale è direttamente proporzionale al numero di entrate di celle di scaffali in cui voi dovete in cui dovete guardare in questo caso questa è una nota per diciamo per i più nerds fra noi il vantaggio computazionale non è esponenziale come nel caso di Shore è solo polinomiale ma si va da n a radice di n ma capite che se ci dovete mettere una roba un milione di secondi che è 10 alla 6 metterci a radice di n vuol dire 10 alla 3 mille secondi avete risparmiato un bel po' di tempo quindi anche in questo caso dal punto di vista pratico l'algoritmo quantistico ha dei vantaggi molto molto significativi questi sono i due più famosi sono i due più vecchi e ce ne sono tanti altri ma io naturalmente mi fermo qua e ti chiedo se hai domande ma c'è di domande ne ho un milione e mezzo cioè francamente vorrei un computer quantistico per risponderti in tempo esatto esatto ci vorrei un computer quantistico esatto però io sono indeciso siccome sono le 10.35 10.38 io ho un sacco di domande da farti veramente moltissime però temo che secondo me è giusto che ti faccia l'ultima domanda e poi dopo chi vuole soffrire stiamo qua anche fino alle 11.30 di fare così perché noi di solito verso le 11 meno qualcosa finiamo la diciamo la diretta poi capita quando siamo dal vivo che stiamo lì fino alle 11.30 mezzanotte come dire farci un drink e rilassarci cioè la discussione di vediamo no io direi di fare così giusto anche perché per dare la giusta tempistica io ti farei l'ultima domanda poi chi vuole io dopo ti devo fare delle domande assolutamente altrimenti sto male quindi chi vorrà sapere fino all'ignoranza purtroppo naturalmente come dire fra di noi non spero avremo certamente molte altre occasioni per fare le domande quindi puoi farti come fai solo prima il vasto pubblico ok senti l'ultima domanda abbiamo un pochino litigato mi è un po' dispiaciuto che mi hai censurato mi hai censurato tu eh ho fatto un atto di censura lo sai che hai fatto un atto di censura nel mio riguardo eh sì sì ma come dire come sempre come sempre argomenta chi attua la censura per una causa più alta esatto io poi Tommaso domenica nell'inquisizione quindi sono assolutamente d'accordo con te ecco no ma censurato Paolo perché io volevo mettere come immagine della serata il teletrasporto di Star Trek io sono un fan della serie classica in particolare anche e dei film però lui mi ha detto no a questo non te lo passo mettiamoci un'altra immagine perché è molto fuorviante esatto perché il teletrasporto diciamo è una realtà potremmo dire scientifica però evidentemente non è così scientifica come il capitano che viene portato da una parte all'altra ecco quindi l'ultima domanda verteva sul secondo diciamo tema che era nel titolo se ci potevi spiegare di cosa si fa cioè cosa significa il teletrasporto sul piano scientifico ecco qual è lo status questionis sul teletrasporto certo allora quantum teleportation come vedi mi ero preparato allora la teleportation è un fatto assolutamente scientifico è un fatto che ormai viene è così scientifico che come dire è routine se tu in un laboratorio di ottica quantistica in cui diciamo si tratta la luce dal punto di vista delle proprietà quantistiche uno dei test che ormai qualunque laboratorio deve essere in grado di fare è fare il teleportation di fotoni ok quindi si sta parlando di fare il teletrasporto di un qualcosa teletrasporto vuol dire portare da un punto A a un punto B che sono remoti ma cos'è che portiamo e questo è il punto laddove Star Trek in cui sembra che come dire che trasportino materia in particolare addirittura esseri umani quello che facciamo in questo caso nel teletrasporto come ti ho confessato questo è un nome che gli stessi autori ed eccoli qua questo è questo gruppo qua di signori qua che nel 92 hanno fatto il paper teorico che poi è stato realizzato per la prima volta sperimentalmente nel 97 sai dove? a Roma da Francesco De Martini in maniera ancora incompleta e poi in maniera più completa da Anton Zeilinger a Vienna stiamo parlando di roba da premio Nobel anche se ancora non l'ha avuto devo dire teletrasporto di fotoni cos'è che succede? ecco qua abbiamo un diagramma abbiamo due laboratori di nuovo che potremmo chiamare Alice qua Alice Cooper che è a Los Angeles e qua abbiamo il laboratorio ah voi non vedete il mio la punta del mio il pointer allora sulla sinistra vedete un laboratorio dove vuol dire che qua si effettua una 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 serie di misure e qua sulla destra avete un altro laboratorio in cui si effettuano delle altre operazioni quantistiche allora Alice e Bob condividono uno di queste di queste coppie di particelle IPR che sono entangled ok quindi diciamo una c'è la Alice a Los Angeles e l'altra c'è la Bob sulla destra a Kingston ok le particelle sono quelle verdi o sono quelle le particelle excuse me è giusto il quantum quello che qua è descritto come quantum allora vedete qua qui c'è un quantum dot che vuole dire semplicemente una sorgente che in particolare qua è chiamato quantum dot che genera un paio di fotoni entangled uno di questi qua va da Alice sulla sinistra e uno di questi va da Bob sulla destra quindi adesso Alice ha un fotone Bob ha un fotone che sono però entangled fra di loro in più quindi sono questi arancioni in più c'è un fotone nel laboratorio di Alice che è quello verde e Alice non sa niente di questo fotone però il sarai in un certo stato quantistico quello che tu puoi fare nel teletrasporto è la seguente cosa che adesso capisco che se voi avete in mente Star Trek può essere un po' disappointing può essere come dire non sembrare così eccitante ma credetemi invece una cosa straordinaria come dire ancora le onde di questo paper che questi signori qua guarda alcuni sono degli amici Richard Josa Billy Waters Charlie Bennett Gilles Brassard Crepeau e il grandissimo e non più fra di noi Asher Paris hanno inventato questo protocollo allora qui arriva questo fotone dopodiché Alice fa un qualcosa che tecnicamente si chiama Bell State Measurement effettua una misura di un certo tipo nel laboratorio i dettagli non sarebbero difficili questa è una cosa che insegno anche agli studenti al primo anno di università però ovviamente in questo contesto dovete credermi fa una misura che ha quattro possibili risultati a questo punto Alice manda con un classical channel quindi un canale di informazione classica immaginate una linea telefonica telefona a Bob a Kingston e gli dice uno oppure due tre o quattro insomma gli dice il risultato della sua misura che ha fatto misura che coinvolgeva sia il fotone arancione cioè quello che è una parte della coppia entangled che è il fotone verde che è quello che lei non conosce ok non sa in che stato però effettua questa misura e comunica il risultato a Bob Bob indipendenza ovviamente questo come dire è un algoritmo che è stato prestabilito fra di loro a seconda del messaggio che riceve uno due tre o quattro fa una cosa effettua uno di queste porte logiche di queste trasformazioni unitari di questi gate insomma per forma realizza un'operazione localmente sul suo fotone arancione e sapete cosa succede? che il suo fotone arancione diventa esattamente il fotone verde è stata trasferita completamente in un caso ideale esattamente tutta l'informazione sullo stato quantistico che come ci ricordava Claudio apparentemente contiene un'infinità di informazione è stata trasferita teletrasportata sul fotone di Bob perché quindi Star Trek è fuorviante? questo è straordinario però in Star Trek non è whoops non so cosa è successo vabbè sono uscito vedi vedi tutto? sì vediamo anche non ha schermi in termo ma si vede benissimo va bene allora facciamo così non so cosa sia successo quello che accade la slide probabilmente allora dopo ti fa uscire da powerpoint secondo me comunque si vede bene anzi vediamo anche il tuo cursore questo è incredibile impararlo prima vabbè come dire allora abbiamo trasferito lo stato del fotone verde del quale Alice non sa nulla è in uno stato sconosciuto viene trasferito completamente nello stato del fotone di Bob ripeto questo può essere a Los Angeles questo a Kingston questo qua e quest'altro in Andromeda basta che in un qualche modo nel passato si sia determinato un processo che qua è descritto dal quantum dot che abbia messo a disposizione di entrambi una parte di questa coppia entangled quindi ho trasferito completamente lo stato del fotone ma non la materia capisci la differenza con Star Trek che non è che le persone si muoiono excuse me si muovono da A a B dall'astronave Enterprise al pianeta in cui i clingoniani cercheranno di dargli dei guai e che l'analogo sarebbe che Kirk e gli altri vengono distrutti e copiati sul pianeta perché quello che avviene è uno transfer di informazione quantistica ok e quindi diciamo a meno che tu non creda che voi non crediate questa è una profonda questione filosofica che tutto quello che ti costitui sicuramente per diciamo per delle mentalità orientazione religiosa completamente inaccettabili che tu sia definito solo dalle configurazioni materiali degli atomi che ti compongono e quindi qualora tu fossi in grado di trasferire di copiare esattamente la configurazione di ogni singolo atomo del tuo corpo su un altro substrato materiale cioè diciamo ti distruggono qua ma sotto c'era una vasca piena di idrogeno carbonio ossigeno azoto e così via in cui tu ti riformi tu lo faresti Claudio? semplicemente io ti copio da un'altra parte distruggendo la parte è the prestige no? non l'ho visto il film di Nolan è esattamente questo ah ok no mi hai appena tra l'altro non penso che avesse neanche in mente questo discorso del trasporto quantistico ma nel prestigio proprio un prestigiatore che trova il modo di teletrasportarsi il problema è che non è un teletrasporto ma vengono fatti sempre dei duplicati che poi dopo devo uccidere in qualche modo Claudio è proprio così perché anche questa questione che la duplicazione anche a livello microscopico atomico più dettagliato insomma la tua anima viene copiata insomma per chi fra noi e tu come sai io non sono di quelli crede nell'esistenza di un'anima diciamo però mi hai appena rovinato il film perché io non l'ho mai visto e chiedi a Rosa qua di fianco che mi ero riproposto visto che io sono un grande stimatore di Nolan stiamo riguardando proprio in questi giorni la serie del Cavaliero Oscuro The Dark Knight mi hai appena rovinato Prestige va bene mi meraviglio che tu non l'abbia letto ti non l'abbia visto quello lo andavo per scontato ma senti tu hai fatto ma hai fatto a me delle domande provocatorie perché so dove vuoi arrivare perché facciamo delle gran litigate Paolo su queste cose qua allora comunque questo è il teletrasporto ti voglio chiedere una cosa scusami per capire l'immagine quindi ho finito no no ma ti voglio chiedere una cosa proprio relativa all'immagine partiamo dal quantum dot partano questi due fotoni dico bene una a destra e una a sinistra poi quello di sinistra incontra il fotone verde ok ti volevo chiedere quello di destra nel momento in cui Bob riceve l'informazione il fotone di destra arancione diventa fra virgolette verde no 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 prosegue oppure nasce un nuovo fotone lì che diventa verde ecco perché l'immagine sembra che l'arancione diventi verde hai capito? lo diventa però non scordarti di quell'altro che l'immagine ti sta dicendo ti sta dicendo che qua viene fatta un'operazione di misura che ha quattro possibili risultati questo lo aggiungo io dopodiché Alice deve comunicare tramite un canale di comunicazione classico e dopodiché Bob deve fare una trasformazione unitaria quindi c'è un delay temporale c'è prima la misura qua poi c'è il processo di comunicazione che comunque non è super luminale cioè deve avvenire necessariamente con velocità inferiori a quella della luce dopodiché c'è un processo una trasformazione quantistica una di queste porte logiche quantistiche che viene effettuate sul fotone arancione la quale dipende dal messaggio che Bob ha appena ricevuto e solo a questo punto che l'arancione diventa verde ok era questo il mio dubbio era proprio questo no ma è un dubbio fondamentale ho capito è un dubbio fondamentale è molto chiaro non c'è trasmissione come diciamo noi tecnicamente scusatemi se l'ho usato anche adesso super luminale vuole dire un'intrazione di informazione con una velocità che è superiore a quella della luce quindi super luminale o super luminale adesso non so se dica in italiano super luminale no no questo è un processo il bottone verde la che era da Alice continua e lì è diventato una poltiglia è come se io ti disintegrassi lì e ti rifaccio di costituire là quindi non è come Prestige perché Prestige mi ha detto fa delle copie mi hai veramente rovinato un film fa delle copie qua no la quella originale è distrutta in un certo senso preciso che potremmo fare molto come dire che rendere infinitamente preciso e matematicamente rigoroso in circostanze diverse dalla presente ok è distrutto quindi io ti posso teleportare ma qua ci rimane solo una pozzanghera di carbonio azoto ossigeno una melma e semplicemente c'è una copia nella location B a Kingston Jamaica dove ti puoi fare un joint con Bob Marley ok senti allora io direi guarda io non so veramente come ringraziarti ci hai regalato una serata di altissimo livello sei stato secondo me chiarissimo nella difficoltà della materia hai dimostrato di possederla completamente questo penso che sia passato a tutti e ho sentito cose davvero che mi si sono chiarite alcune cose soprattutto nelle seconde parti anche se i dubbi sono tantissimi io direi vediamo se c'è qualche domanda dal pubblico quindi adesso iniziamo la fase delle domande visto che sono le 11 meno 10 e poi vediamo dove arriviamo ecco la prima domanda forse la vedi anche tu una volta che l'ha trasformato cioè copiato il fotone poi si possono conoscere le informazioni su questo fotone che inizialmente era sconosciuto sì naturalmente sì perché a questo punto tu puoi fare delle misure io non ho neanche capito la domanda diretti no no io l'ho capito la mia amica Maria Laura comunque no no è buona immagino perché lei è una scienziata quindi no no certo ovviamente a questo punto tu puoi hai il fotone l'hai nel laboratorio di Bob e a questo punto Bob può fare su quel fotone quello che avrebbe come dire quello che si fa quello che la gente fa ai fotoni in particolare misurare le sue proprietà il punto ed è quello per cui credo che questa domanda sia stata fatta e per cui è buona Alice non ha imparato assolutamente nulla del fotone non è che come dire che l'ha misurato e poi ha detto a Bob guarda è facco così e Bob l'ha costruito perché per misurare il fotone lo stato del fotone come tu hai osservato avrei dovuto determinare come il vettore sulla sfera di block un vettore a tre componenti reali o due coordinate angolari che ne definiscono la location su una sfera le quali sono dei numeri reali i numeri reali sono definiti da un'espansione decimale infinita in generale cioè lo stato del fotone nel senso del vettore che descrive lo stato quantistico del fotone richiede una quantità infinita di informazione mentre Alice ha effettuato una misura di Bell una particolare misura naturalmente vi ho risparmiato una serie di dettagli tecnici essenziali dopodiché dice a Bob comunicandolo attraverso il channel facendo la phone call gli dice semplicemente quali dei quattro possibili risultati lei ha ottenuto dopodiché Bob condizionalmente cioè in dipendenza del particolare messaggio che ha ottenuto effettua a sua volta una particolare misura quindi lo scambio di informazione ci sono due bit classici che vengono scambiati ma il risultato è che viene trasferito un intero stato quantistico che in un certo senso preciso che è quello che ho ricordato equivale a una quantità infinita di informazione però dal momento che è stato teletrasportato al fotone Bob può fare le sue dirty things with the photon ed è diciamo fra virgolette adesso vabbè adesso vorrei stiamo sempre su questo discorso qua ed è dimostrato che sono trasferite tutte le informazioni del verde a quell'arancione che poi è diventato fra virgolette verde o se ne è persa qualcuna cioè siamo proprio sicuri che ce li è passate tutte allora Claudio natura no 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 intanto la sicurezza ce l'avete voi metafisici e religiosi noi noi non abbiamo la fede ok quindi no no è una differenza essenziale proprio che pertiene all'essenza dei due diverse modalità di conoscenza comunque neanche noi metafisici abbiamo fede te lo dico no ecco è uguale perché la fede perché tu credi nella necessità e quindi già la fede è una brutta roba comunque va bene scusa non divaghiamo e la risposta è che ovviamente dal punto dal punto di vista teorico quindi dal punto di vista delle predizioni della teoria più di successo che l'umanità abbia mai formulato nella storia del mondo sì la verifica sperimentale come tutte le verifiche sperimentali è soggetta a delle imperfezioni a degli errori a delle limitazioni tecnologiche quindi la risposta è entro l'ambito degli errori sperimentali sì assolutamente sì cioè la realizzazione sperimentale che ribadisco oggi come oggi è di routine è una roba che facciamo fare agli studenti non dico del primo anno ma del primo anno di dottorato sì ok se lavori in quel campo naturalmente nell'ambito delle incertezze sperimentali che sono inerenti alla ricerca empirica sulla realtà della realtà perdonami quanto mi diverto fare un talk in un contesto filosofico sì assolutamente sì cioè il teletrasporto è stato sono 25 anni che è verificato totalmente in tutto il mondo nell'ambito degli inevitabili errori sperimentali ok quindi la prima volta quando è stata fatta questa cosa qua 25 anni fa praticamente è stata fatta nel 97 a Roma comunque è molto è recentissimo e se ne parla relativamente se ne parla beh certo questo teletrasporto è stata una cosa molto grossa prima concettualmente e poi sperimentalmente perché qua mi dai l'opportunità però aspetta ci sono delle altre domande che non vorrei che fossi visto che ce ne sono te le posso leggere perfetto questa signora questa è mia figlia ah bene la signorina testi quindi immagino signorina sì ancora 24 22 perfetto allora questa è una domanda buona allora e la cui risposta mi è stato letteralmente sottratto quello che stavo per dire quindi qua oltre che teletrasporto abbiamo telepatia immediata perché quantum teleportation è l'ingrediente di base del campo della criptografia quantistica cos'è la criptografia in generale l'arte di codificare dei messaggi in maniera che siano non leggibili se non da chi ha il codice di lettura e naturalmente è fondamentale nella trasmissione della comunicazione su vasta scala cioè tutte le transazioni per esempio finanziarie che avvengono voglio dire siamo noi che paghiamo su Paypal che acquistiamo su Amazon sono criptate vuole dire che sono codificate in un modo la cui dati la cui leggibilità è preclusa è impossibile unless you have the key la chiave criptografia allora la quantum teleportation è in un modo in cui naturalmente il dettaglio non ci entro ma è un ingrediente essenziale nei protocolli di criptografia quantistica che sono uno dei campi ancora di più del computer quantistico quindi questi network di gate di porte logiche quantistiche che ancora è di grande difficoltà e ci stanno lavorando ormai team di centinaia di ingegneri scienziati con finanziamenti per centinaia di milioni di dollari in tutte quelle grandi compagnie che ho citato prima la criptografia quantistica è relativamente parlando cioè la codifica dei dati la segretazione usiamo dei dati utilizzando tecnologie quantistiche è molto più facile relativamente parlando ed è già una realtà in diversi porci del mondo e lì è laddove possiamo dire che la quantum teleportation che comunque il cui importanza almeno per quello che mi riguarda rimane prevalentemente concettuale straordinario però la risposta è sì le applicazioni ci sono nella criptografia quantistica quindi ci sono già esistono già assoluto of course ma esistono già da vent'anni perché la criptografia quantistica è per varie ragioni storiche che gran parte della tecnologia necessaria per implementare per realizzare la la criptografia quantistica esisteva già per altre ragioni perché la fotonica e l'ottica quantistica hanno già estremamente sviluppata quindi come dire quando noi a questi signori gli abbiamo detto guardate che potete fare x y z loro erano ok you know what I can do right away man thanks a lot and they just did it dunque c'è un'altra domanda poi dopo te vorrei fare una io che Andrea che l'hai conosciuto tu il primo sì 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 eh beh però questo è troppo generale non posso rispondere cioè quali sono le nuove frontiere della fisica dove ho risvolto lo sguardo della comunità scientifica cioè sì posso dire ma è sempre in questo orizzonte qua no va bene allora sì naturalmente Andrea grazie della domanda naturalmente generale non vuole dire che sia bello ma vuole dire che mi mette in grande difficoltà oppure in grande semplicità perché le questioni sono quelle di sempre sono l'origine dell'universo adesso parliamo solo della fisica sono l'origine dell'universo noi non sappiamo non sappiamo di cosa è fatto il 97% di quello che vediamo là fuori ok quindi io direi che quella è una grande questione della fisica forse è la più grande l'origine dell'universo e la costituzione dell'universo nel campo della scienza fondamentale microscopica se volete in un certo senso la meccanica direi che il nostro campo e qua davvero come dire vi chiedo di credermi non è una questione di campanile che mi allieno per storia costituzione caratteriale quindi ci chiedi un atto di fede sostanzialmente vi chiedo un atto di sì di fede in un'autorità accademica qua invoco il cattedratico il nostro campo il campo dell'informazione quantistica e qua è anche come dire una pacca sulla spalla a te che hai scelto questo tema è uno dei campi più importanti della fisica e più attivi della fisica a questo punto ahimè ma anche no ai miei tempi era un'operazione come dire di fisica di scienza fondamentale come si dice curiosity driven ci facevano delle domande fondamentali sulla natura dell'informazione quantistica sulla natura della computazione come queste potessero interagire in modi radicalmente nuovi adesso è diventata una questione quasi da ingegneri straordinariamente complessa affascinante ma entrata a gamba tesa nel mondo applicativo ma dal punto di vista anche concettuale l'informazione quantistica ti dà una serie di strumenti proprio concettuali e matematici e qua ci porterebbe al discorso insomma sulla matematica che in realtà è dietro a tutto ciò pesantissimamente ed essenzialmente la matematica è dietro a tutto ciò gli strumenti concettuali e matematici sviluppati dalla meccanica quantistica in particolare dall'informazione quantistica in realtà stanno avendo applicazioni a tanti altri campi della fisica ok transizioni di fase nella materia condensata stati esotici della materia però se mi chiedi qual è la grande questione aperta della fisica ti dico l'origine dell'universo e si connette a quello non so più se l'unificazione delle forze sia così di moda questa propensione monoteistica è venuta un pochino a me questa idea che tutte le teorie dove essere manifestazione di una teoria soggiacente questo era il sogno di Einstein che però è diventato l'incubo di generazioni di fisiche forse non è davvero al di là delle battute sul io sai ho più propensioni politeiste proprio se debbo al limite diciamo se di teismo hai già fatto un passo in avanti scusa cavolo questa è notizia clamorosa questa no beh si politeismo però diciamo di modello in due alla fine poi c'è solo il Brahman in effetti e l'Atman comunque al di là delle battute così giocose fra me e l'amico Claudio per molti anni mi veniva suggerito da Rosa l'unificazione delle forze cioè avere un'unica teoria che descrive tutte le forze della natura forze nucleare forte debole gravitazionali elettromagnetiche sulla base di una singola teoria più appunto la gravità questa è la grande sfida e forse quello devo dirlo quindi forse quello l'unificazione della meccanica non tanto l'unificazione delle forze ma l'unificazione una descrizione quantistica coerente della gravitazione che è la teoria fisica più antica che abbiamo appunto formalizzata dallo stesso Newton ancora manca cioè non abbiamo una teoria soddisfacente logicamente consistente matematicamente coerente e predittivamente significativa della della gravità ok laddove gli effetti quantistici siano importanti quindi ci manca la gravità quantistica e ci manca la materia oscura ma magari quando capiremo l'una capiremo l'altra e mi fermo nella fisica perché se no poi l'origine della vita la coscienza quelli sono le grandi questioni perché sono questioni che alla fine la scienza arriverà anche il problema della coscienza il problema dell'intelligenza ma l'intelligenza è molto più facile della coscienza l'intelligenza ormai anche i computer sono intelligenti la coscienza e non parlo di autocoscienza parlo di coscienza prima poi c'è un ulteriore layer di complessità che è la self awareness quella che chiamiamo autocoscienza mi fermo qua sono le 11 forse davvero aspetta io direi bisogna che un paio di domande me le fai fare anche se puoi fermarti altri 10 minuti se ce li concedi io li concedo sì però diciamo veramente a questo punto il pubblico diciamo che ci saranno rimasti quei veri filosofi a quest'ora ecco no senti io ho una domanda semplicissima sono due sono abbastanza semplici tra le tante che vorrei farti una è semplicissima proprio meccanica quantistica domande semplici non hanno nessuna correlazione sulla semplicità della risposta mi dirai tu può essere che ce l'abbia in questo caso qua allora prima cosa meccanica quantistica chiaramente riguarda il mondo delle particelle atomiche no l'infinitamente piccolo ecco ti volevo chiedere quando noi guardiamo dei fenomeni macroscopici sono stati dimostrati degli effetti quantistici certo certo cioè a che livello ad esempio no no questa è una domanda ti faccio un esempio banale io ho davanti a me il cellulare lo sto guardando cioè io influenzi in qualche modo l'oggetto nel momento in cui lo conosco qua entriamo Claudio entriamo nel modo della new wave della new age I'm sorry and no allora la meccanica quantistica è una teoria universale non è immaginata nasce storicamente nell'infinitamente piccolo per usare questa espressione insomma per capirci abusata cioè a livello di fisica atomica ma non è in nessun modo limitato lì perché in particolare la meccanica quantistica è un'estensione della meccanica classica cioè la meccanica classica è un particolare limite cioè se noi avessimo scoperto la meccanica quantistica per qualche ragione strana prima della meccanica classica poi avremmo anche scoperto la meccanica classica però sarebbe stato più difficile così come è stato conoscendo la meccanica classica più difficile trovare la meccanica quantistica se noi fossimo stati piccolissimi per qualche ragione la coscienza l'intelligenza avesse potuto svilupparsi su una scala spaziale molto più piccola avremmo prima scoperto la meccanica quantistica e poi scoperto che nel limite di cose grandissime come galasse c'è una prosa per tutti gli effetti pratici la meccanica quantistica si semplifica in un certo senso e diventa la meccanica classica quindi la meccanica quantistica non è la teoria del piccolo la meccanica quantistica è la teoria del tutto semplicemente quando tu hai degli oggetti macroscopici tipo questo meritatissimo bicchiere di birra che bevo gli effetti propriamente quantistici interferenza entanglement così sono mascherati sono difficili da vedere e il comportamento che ho è un comportamento che è conforme alle predizioni della teoria classica cioè si comporta come un oggetto pratico però ci sono degli oggetti macroscopici che un metallo ha delle proprietà che è perché la struttura è quantistica un superconduttore che è un metallo a bassissima temperatura in cui la resistenza che si oppone al fluire della corrente elettrica è diventata zero di fatto è un oggetto quantistico macroscopico lo stesso si dice per i cosiddetti condensati di Bose e Einstein che sono dei gas atomici portati a temperature millichelmin vicinissime allo zero assoluto che improvvisamente diventano come dire la funzione permettimi questa analogia ma non è un'analogia in realtà è preciso le funzioni d'onda non è più un oggetto microscopico ma diventa addirittura un oggetto macroscopico quindi la meccanica geometistica è una teoria universale uno che in particolare in determinati regimi limiti da origine della meccanica classica in particolare situazioni sperimentali da origine a fenomeni quantistici che sono se non proprio macroscopici sono mesoscopici ok l'ultima domanda ma anche questa è semplice secondo me ti volevo chiedere computer quantistico intanto io ti vorrei chiedere se magari ma so che tu sei un lettore di altissima specializzazione se magari puoi guardare consigliarci dei libri sul discorso del computer quantistico ecco io ti vorrei chiedere due cose sul computer quantistico peraltro sono tutti scritti da miei amici quindi faccio dei libri accessibili di buona divulgazione no 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 ma alcuni dei miei colleghi amici sono famosi davvero famosi ah in italiano ma 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 li puoi anche scrivere me li puoi mandare magari poi li condividiamo i libri devono essere in italiano se in italiano meglio comunque anche l'inglese va bene alcuni di questi sono stati tradotti sì te li mando ok ecco però peraltro signori sul computer quantistico in particolare no ma c'è questo libricino che ha reso il suo autore che era già ben noto e apprezzato e stimato nel campo tecnico Carlo Rovelli ha scritto queste sette brevi lezioni di fisica che diciamo se sei un professional come me beh però non sono sul computer quantistico io l'ho letto però sono sulla meccanica quantistica comunque mi permette almeno alcune di quelle sono sulla meccanica e assolutamente sì Claudio prova a mandarti dei due tre ma sul computer quantistico perché Rovelli è bravissimo ho letto recentemente Elgoland è bravissimo Rovelli Carlo Rovelli è un ripeto è un uomo che ha dato dei contributi importanti in fisica fondando una certa linea di ricerca che adesso è morta effettivamente e quindi capisco che lui abbia cambiato mestiere essenzialmente ma questo nuovo mestiere che si è inventato l'ha fatto benissimo molto bene Carlo Rovelli non è famoso in Italia perché Carlo Rovelli quindi italiano a parte che lui è sempre stato all'estero diciamo Carlo Rovelli è diventato un New York Times best seller adesso quando in America si fa un grande libro e non solo nella fisica ma di divulgazione in generale dicono ah along the lines seven brief lectures of physics ah quello è bellissimo sì con tutti i limiti che può ecco senti ma non era questa la domanda ecco la domanda era magari mandami per mail divulgazioni su computer quantistico volevo farti una domanda su computer quantistico per vedere se ho capito vagamente il concetto hai fatto il parallelo tra diciamo tra la logica classica la logica booleana quindi gli operatori di 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 boole e quelli quantistici ti volevo chiedere in logica classica quando noi dobbiamo calcolare il valore di una proposizione quindi una serie di 0 e 1 sostanzialmente per vedere se è una tautologia no? si fa proprio la tabellina no? 2 alla terza se è una proposizione fatta di di 3 di 3 di 3 proposizioni P Q R devi calcolare 2 alla terza 8 valori diciamo possibilità dopo li vai a comporre calcoli gli operatori booleani vedici nell'ultima colonnina ti paiono tutti degli 1 oppure che paiono tutti degli 0 quello lì sarebbe una contraddizione oppure che appare qualche 0 quello 1 quello lì sarebbe una proposizione soddisfacibile delle volte vere delle volte false ecco ma stiamo su questo esempio qua io per calcolare se una proposizione è una tautologia e questa proposizione parla di 3 elementi mi faccio la mia tabellina e vedo nella colonnina se sono tutti uno il computer quantistico è una qualcosa del tipo che lui questo lavoro qui come dire te lo fa tutto in un colpo cioè non so come calcolo un computer quantistico le tavole di verità per vedere se una proposizione è una tautologia così lo fa subito tac così beh tac intanto come dire ci sono dei tempi perché niente è super luminali e tutti i processi fisici hanno dei tempi però lo fa in un singolo run non è che lo calcola serialmente in modo successivo per le otto configurazioni 00 001 subito nella colonna vede ci sono degli uno come si calcola lui riproduce tutta sta roba qua però come ti ho detto il tuo esempio in realtà l'ho già discusso io posso preparare lo stato iniziale del sistema una sovrapposizione di tutte le possibili in questo caso valori di verità delle tre proposizioni lui le calcola se io sono in grado naturalmente di realizzare un circuito quantistico ma lo sono believe me come diceva il nostro ex presidente believe me che posso costruire questa sovrapposizione e questo lui calcola tutti i possibili risultati però sono a loro volta contenuti in una sovrapposizione quantistica quindi in qualche modo tu la devi estrarre l'informazione fisica quantistica c'è sempre questa dualità tra la dinamica che è deterministica descritta dall'equazione di Schrödinger e i circuiti quantistici sono solo una particolare realizzazione specifica dell'equazione di Schrödinger il processo di misura quindi alla fine poi tu la devi fare questa misura e quindi in realtà alla fine devo fare otto volte lo stesso ho capito se tu vuoi sapere tutti gli otto valori lo devi fare otto volte in mezzo ma se io voglio sapere solamente se hai una teutologia allora probabilmente dovrai pensarci un secondo se tu vuoi sapere una teutologia direi che in una volta ce la fai ecco mi dovrei segnare un attimo su questo esatto era questa l'intuizione che mi era balenata mentre parlavi dico forse riesci a calcolare la colonnina subito dovrei pensare un attimo però se tu chiedi bravissimo se tu ti chiedi non tutti i possibili valori di tutte le possibili computazioni dati ma se tu ti chiedi una certa proprietà sì sì per esempio in realtà c'è un algoritmo molto semplice che è un originario che in un qualche modo fa esattamente quella cosa lì ti dice se è una funzione costante o no si chiama un algoritmo di Josa di Deutsch Josa uno proprio degli algoritmi primitivi alla base della computazione quantistica che per un caso semplice di una come dire di una sola di due proposizioni per usare il tuo linguaggio ti dice se è una ok ti dice se è una tautologia o meno ok tecnicamente se la funzione è costante cioè sempre uno o è bilanciata una volta zero una volta uno esatto esatto non l'abbiamo mai testato in questi termini yes in quel caso basta un solo run ecco una sola chiamata della routine quantistica ok allora o avevo intuito abbastanza avevo intuito qualcosa senti a me dispiace un sacco a parte che ho il computer che non c'è più la batteria ma questo poco male che ci attaccarei la corrente però sono le 11 e 17 direi che abbiamo fatto siamo andati anche oltre io direi che stacchiamo la diretta io non so come ringraziarti sai che ti ho comprato con una bottiglia di aceto balsamico ma il tuo intervento è stato impagabile veramente cioè veramente impagabile Claudio ti ringrazio dei complimenti ma come dire che ringrazio e basta voglio ringraziarvi adesso non so se ci sia ancora qualcuno però non so neanche se poi queste cose sono registrate e visibili si su facebook restano poi le diciamo anche sul nostro sito ecco magari mandami un link che magari mi guardo anch'io ma soprattutto lo so lo condivido con altri amici che magari ti tengo aggiornato ti tengo in diretta voglio ringraziare chi ha avuto la pazienza il coraggio anche coraggio forse di stare con noi fino a questo orario in un periodo così particolare periodo appunto molto particolare per tutti anche molto duro per molti di noi per qualcuno di noi i privilegiati sto pensando a me stesso questo mi ha permesso di essere qua a Modena e di fare questa roba quindi dobbiamo ringraziare questa situazione per una volta sulle migliaia come dire sull'infinità di aspetti negativi cerchiamo quindi finisco con una banalità pseudo-filosofica di estrarre come dire di vedere il bicchiere mezzo pieno laddove ok va bene comunque vedi guarda bravissimi entrambi logiche fisiche ed altri livelli finiscono col coincidere quindi con Enrico Guidoni un amico che ringraziamo ringrazio grazie Enrico adesso su questa coincidenza cioè identità avrei qualcosa da dire ma ho colpito il concetto grazie mille a tutti signori va bene ciao Andrea ci pensi tu a staccarla diretta perché non vorrei fare dei danni direi grazie Claudio ci sentiamo presto ok ciao Paolo grazie tantissimo